Buongiorno a tutti, vi chiediamo di prendere posto perché come sapete in questa versione mista della Summer School 2021, un po' in presenza, questa mattina molto in presenza e un po' da remoto, diventa necessario partire molto puntuali perché il web ci ha insegnato ed è una delle poche cose positive della pandemia, la grande puntualità. 9.32 iniziamo questa terza giornata di Summer School 2021, lo ricordiamo tutti, dobbiamo essere molto concreti, molto pratici, cercare di dare delle soluzioni possibili ai decisori regionali, ai decisori nazionali e questa mattina abbiamo tutti gli strumenti e tutte le persone adatte a questo tipo di attività. Allora io darei subito la parola a Maria Luisa Malpelo per la nostra presentazione istituzionale e poi a Walter Locatelli che modererà con me e che anche lui ci farà una presentazione introduttiva. A te. Grazie mille Giulia, buongiorno a tutti, benvenuti al simposio dal titolo Big Data e Intelligenza Artificiale, impatto nella programmazione e riorganizzazione dei processi di cura. Oggi parliamo del real world che è fondamentale per capire l'impatto reale delle terapie ma anche diagnosi e governance dei sistemi. Sappiamo che l'intelligenza artificiale cambia l'approccio al sistema e modifica il mondo del lavoro in sanità, compresa anche l'Internet of Things. Alcuni spunti per il panel di esperti circa l'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale parte da un presupposto, ovvero che algoritmi e macchine possono lavorare su Big Data per fare valutazioni. Si parla di machine learning. L'intelligenza artificiale non si sostituisce all'uomo ma integra e aiuta le funzioni in campo sanitario grazie alla capacità elaborativa dei dati che l'uomo non ha. L'intelligenza artificiale concettualmente è datata, è mutata nel tempo e applicazioni in campo sanitario sono quelle relative alla complementarietà alla diagnosi, il confronto strutturato con il percorso, l'autodiagnosi, l'automedicazione, seppur con cautela con il supporto medico, le corti per la ricerca, la sperimentazione, scouting sul farmaco e il suo esito. Io spero di aver dato al panel di esperti un po' di spunti su cui lavorare e do la parola a Walter Locatelli, prego. Ecco a te caro Walter, io ricordo il titolo del nostro, di questa nostra prima, questo primo nostro tavolo mattutino, Big Data e intelligenza artificiale, impatto nella programmazione e riorganizzazione dei processi di cura. Walter, davvero, tu l'hai vissuto come direttore di Alisa, come di fatto direttore della sanità di una intera regione, l'hai vissuto in questi ultimissimi anni, quanto ti ha aiutato nel prendere le decisioni, diciamo la filiera, Big Data, Machine Learning, intelligenza artificiale e dunque cura personalizzata e perché no, anche prevenzione personalizzata. Così abbiamo un microfono cada uno. Perfetto. Grazie. Buongiorno a tutti. Credo che sia un tema di una vastità e di una complessità che si commenta da sola e quindi magari il nostro compito è cercare di focalizzare quello che è utile mettere in campo per utilizzare questa intelligenza artificiale perché la domanda a che cosa serve e quali sono i risultati, quali sono gli obiettivi che ci prefiggiamo, credo che possa essere il nostro filo conduttore e quindi con tutti gli esperti che interverranno dopo potremo verificare sia esperienze regionali che un tentativo di sintesi, di utilizzo di queste grandi potenzialità che ci sono per dare le risposte d'attualità, il nostro PSNR e quindi di grandissima attualità deve essere riempito di contenuti veri, probabilmente è più facile andare su Marte oggi e sappiamo che oggi c'è una navicella spaziale totalmente rinnovata che gira per lo spazio e utilizzerà molta parte di intelligenza artificiale per i suoi lavori che non cercare di dare risposte semplici che peraltro se dimostrato seppur tante volte in modo puntiforme essere possibili e quindi le esperienze regionali sicuramente saranno molto molto utili. Un altro aspetto molto importante è che l'attore complessivo della nostra sanità che quindi ha bisogno di supporti di tecnologia e di intelligenza artificiale il primo attore è il cittadino. Noi dobbiamo riconquistare la fiducia del cittadino all'utilizzo di tutti quei mezzi che possono essere utili a tutela della salute e qui si apre il campo per esempio della telemedicina. Un altro campo vastissimo che però va circoscritto alle situazioni che sono utili e sicuramente è importante che il cittadino come primo attore della sanità sappia di che cosa si parla, che non sono cose lontane ma sono cose che oggi la tecnologia può mettere a disposizione. Telemedicina è presa in carico della cronicità, se non utilizzeremo al meglio questi supporti tecnologici sicuramente non potranno fare molta strada. Molto velocemente serve al cittadino quindi serve al sistema sanitario perché un sistema sanitario deve dare risposte per oggi ma deve essere in grado di dare risposte anche per il domani. E quindi la predittività di alcuni fenomeni è un altro aspetto importantissimo. Noi con i big data vi sono tantissime esperienze di utilizzo dei dati, spesso e volentieri purtroppo sono atomizzate, sono parcellizzate, ma sicuramente l'inserimento di tutta la marea di informazioni che sono disponibili in un unico contenitore con una mente non artificiale che la sappia utilizzare e indirizzare può essere estremamente importante. Un'esperienza fatta in una regione, l'ha già detto la dottoressa Giulia Gioda, regione Liguria, attivare un percorso di attivazione di big data vuol dire affrontare diverse problematiche. La prima è quella di mettere attorno al tavolo i tanti attori che sono coinvolti. Il sistema sanitario, l'università, gli specialisti e poi abbiamo il problema della privacy, perché è chiaro che tutte le volte che usiamo un dato dobbiamo tener conto di quegli aspetti dove ci sono tanti vincoli ma dovremmo trovare le opportunità, dobbiamo vedere tutte le cose col criterio vincoli e opportunità per far sì che siano fruibili. Un primo aspetto per dare l'ok a questo è stata la richiesta. Siete in grado di fare una predittività che è un esercizio per tanti aspetti accademico, ma ha trovato nel percorso Covid, ad esempio, già una prima risposta. Quale sarà la domanda di una popolazione, la domanda espressa ed inespressa di una popolazione tra sei mesi, fra un anno o fra due anni? Ecco, credo che tutto questo team di esperti, quindi noi oggi potremo verificare se è vero, ha potuto dare una risposta positiva. Di certo i dati che dobbiamo utilizzare oggi sono diversi magari da quelli che siamo abituati ad utilizzare. Come non accompagnare dati di carattere sociosanitario rispetto ai caratteri sprettamente sanitari che siamo abituati ad utilizzare, il consumo di farmaci, il consumo di prestazioni, per avere un quadro complessivo. Le risorse anche a livello nazionale dell'ambito sociale, che è quell'ambito che sostiene la domiciliarità in termini anche economici e sicuramente hanno un impatto sullo stato di salute dei cittadini. Un'assistenza domiciliare dove non vi sia una povertà, dove vi sia ma non solo una povertà economica, una povertà anche culturale e quindi l'impatto col cittadino che è il primo attore, sicuramente è importante. Allora, volevo vedere il nostro video. Non potrà esserci trasformazione digitale senza gli strumenti più innovativi che già oggi possono essere messi a disposizione delle cure sanitarie. Partiamo di Big Data con informazioni certificate di sistema. La condivisione dei dati tra paziente, medico di famiglia, specialista ed assistenti alle cure dovrà permettere la probabilità delle informazioni del paziente al centro senza violare la sua privacy. Non so, ci sarà maggiore semplicità di interazione fra noi assistiti ed il medico, ma le informazioni saranno utili all'intero sistema sanitario. Le potenzialità per la raccolta dei dati, a partire dai sensori oggi disponibili sui nostri cellulari e smartwatch, ci sono. E i dati potranno essere direttamente generati da chi si prende cura di noi, con i loro commenti, reperti, prescrizioni. Ma per ottenere il meglio dei Big Data è necessario avere strumenti di raccolta capaci di parlare tra loro, condividendo uno spazio comune, insomma strumenti in grado di concretizzare l'organizzazione e la condivisione dei dati centrali in sanità per dar modo alle strutture sanitarie di fruirne. La cartella clinica non sarà solo un contenitore di informazioni, ma un modulo intellegibile in grado di accompagnare il cittadino come e meglio di un parente informato, adottando un approccio preventivo e supportando il personale medico con precisione. In sanità, dove predizione significa prevenzione, il machine learning e l'intelligenza artificiale potrebbero aiutare le persone in maniera personalizzata, con algoritmi che individuano i traccianti del rischio salute ed eventuali stili di vita scorretti che predispongono le malattie, con l'obiettivo di formulare diagnosi precoci e capire i fattori di sviluppo delle patologie. Nella diagnostica, l'intelligenza artificiale non sostituirà il lavoro e le competenze del medico specialista, ma potrà supportarlo nell'individuare le patologie e nel predisporre accurati percorsi terapeutici. La sanità futura necessiterà di maggiore quantità e qualità di dati, affinché la potenza dei nuovi sistemi di analisi possa essere in grado di aiutare noi e le generazioni future ad avere una qualità di cura e stili di vita migliori. Ognuno di noi contribuirà ad un sistema più grande, BIG appunto, per rendere ed avere un servizio migliore. Allora, beh, intanto un piccolo applauso a Desiree, che è un ottimo tecnico e che è anche una brava giornalista. Allora, veniamo a noi. Volevo chiedere a Stefano Quintarelli, che vedo collegato, me lo fate vedere per favore da regia, se hai il tempo di aspettare che noi effettuiamo il primo tavolo con Michela Barbotti, Mauro Bonin, Antonio Cerco, eccetera, eccetera. Oppure, se vuoi fare il tuo speech, immediatamente sull'intelligenza artificiale. Devi mettere il microfono. Non lo sentiamo e dunque è meglio che procediamo con il nostro tavolo, che è strano che non lo sentiamo. Stefano, non ti sentiamo, non so se tu senti noi. Allora, direi che la regia potrebbe contattarlo, risolvere il problema tecnico. Intanto noi manteniamo al momento il tavolo così com'è. Allora, in ordine, diciamo, alfabetico, inizierei con Michela Barbotti. Ma perché con Michela Barbotti? Perché ci rappresenta le problematiche legate alla privacy, in cinque minuti, Michela, per piacere, relative all'utilizzo di dati. Perché, come tutti sappiamo, il dato sanitario è un dato estremamente utile per tutto quanto abbiamo visto finora, ma è ugualmente fondamentale che venga gestito nella maniera corretta. Grazie, grazie mille per l'invito a parlare su un argomento veramente così complesso. Sappiamo che veramente la privacy è un tema che deve indurci sempre a molte, molte cautele, no? Perché se da un lato è vero che l'incremento molto significativo dei big data, soprattutto quelli di matrice sanitaria, no? In questi ultimi anni è stato enorme. Dall'altro il punto, diciamo così, il focus sul quale mi permetto di evidenziare e di porre l'attenzione è il concetto del bilanciamento, no? Quindi, da un lato, incremento significativo dei big data amplificato in questo periodo di emergenza sanitaria dove abbiamo visto che i governi, no? Hanno dovuto implementare dei sistemi di monitoraggio molto efficaci dei contagi per offrire i dati alla sanità pubblica, organizzare una campagna vaccinale che ha costretto a raggiungere e a individuare, no? Tutte le categorie di interessati e anche il grande sviluppo, no? Della tecnologia in ambito sanitario. Ne avete parlato molto bene prima, no? Learning machine, pensiamo a tutte le app mediche, al sistema di monitoraggio da remoto dai pazienti, eccetera. Ecco, dal punto di vista privacy, governare questi processi certamente non è semplice, nel senso che sono in dubbi vantaggi, ma è altrettanto vero che sono anche in dubbi rischi, no? Che possono derivare ai diritti e alle libertà degli interessati, prima fra tutto appunto il diritto alla riservatezza, che è un diritto di rango costituzionale. Ebbene, quindi è importante che in tutti i processi vengono sempre ben osservate, no? Le norme in materia di privacy a partire dal regolamento. Sappiamo che il regolamento non dedica una normativa o degli articoli specifici, no? Al trattamento dei big data, però sono numerosissimi gli articoli che vengono in considerazione, no? Il considerando 91, che disciplina appunto il trattamento dei dati su larga scala, l'articolo 22, che disciplina il trattamento dei dati tramite i processi decisionali e automatizzati, compresi la profilazione. E fondamentale è l'articolo 25, che ha introdotto veramente con un cambio di rotta i principi di privacy by design e by default, no? Che impongono l'attuazione di misure di sicurezza fin dalla fase di progettazione di questi sistemi di intelligenza artificiale che devono effettivamente garantire gli interessati dai rischi che possono appunto derivare dal trattamento. Se poi pensiamo che i big data di matrice sanitaria sono evidentemente composti da dati appunto sanitari, come dice il nome stesso, quindi dati particolari, gli ex sensibili, capiamo che il livello di protezione deve evidentemente essere innalzato. Quindi, dicevo, importanza di questo bilanciamento tra le indubbie potenzialità che possono derivare e i rischi però connessi a queste tipologie di trattamento. Fondamentale, ad esempio, sarà fornire un'informativa adeguata, no? Lo diceva, l'aveva evidenziato prima il dottor Locatelli, un'informativa che deve avere tutte le connotazioni dell'articolo 13, ma che mai, come in questo caso, deve essere resa con un linguaggio chiaro e comprensibile se pensiamo appunto alle particolari categorie di interessati che deve raggiungere questa informativa. Fondamentale è la valutazione d'impatto, no? Uno strumento certamente obbligatorio, no? E che consente di attuare al meglio questo concetto del bilanciamento, quindi soppesare i vantaggi che inevitabilmente derivano da queste tecnologie con i rischi però connessi a queste tipologie di trattamenti. Mi permetto, se ho ancora un minuto e sono veramente in chiusura, di porre l'accento, oltre che sugli aspetti privacy, anche sugli aspetti etici, no? L'Organizzazione Monziale della Sanità ha licenziato proprio di recente un importantissimo documento, no? Che è Etica e Governance dell'intelligenza artificiale per la salute, frutto di mesi di lavoro fra massimi esperti di etica, di tecnologie digitali, di tutela dei diritti, che ancora una volta ha posto l'accento su come sia fondamentale tutelare la centralità dell'individuo, no? Quindi sicuramente l'intelligenza artificiale come metodo per migliorare la diagnosi, il trattamento, la ricerca sanitaria, lo sviluppo dei farmaci, supportare la sanità pubblica, ma sempre e comunque la responsabilizzazione e l'accountability dei soggetti che operano in questo settore per garantire veramente dei sistemi che tutelino l'autodeterminazione, la libertà e la riservatezza dell'individuo, quindi la sua centralità a tutto tondo. Allora, grazie mille, grazie davvero al nostro avvocato. Allora, il tuo microfono è quello e poi se vuoi intervenire, io vi farei questa proposta. Quando scopriremo perché non si sente Quintarelli, lo diremo, insomma, cercheremo di farlo intervenire al più presto, io vorrei sentire le aziende che di fatto in questo istante sono coloro che stanno costruendo un po' il futuro dell'intelligenza artificiale, dei big data, dell'utilizzo del machine learning per quanto concerne la sanità. E poi, se siete d'accordo, sentirei Mauro Bonin della Regione del Veneto e Francesco Gabrielli del Centro Nazionale delle Medicina per, diciamo così, tirare le somme. Bonin e Gabrielli, siete d'accordo? Va bene, ok, perfetto. Allora, andiamo in ordine alfabetico e quindi direi Antonio Cerqua Artificial Intelligence Solutions, Alma Viva. Eccolo qua, buongiorno a te. Vieni pure. Hai una presentazione? No, benissimo. Se riesci a stare nei 5-6 minuti, così diamo l'opportunità a tutti di costruire un percorso insieme. Buongiorno a tutti. Prima di introdurre qualche caso reale sviluppato dalla società Alma Viva, mi interessava comunque sottolineare il fatto che questo convegno, sui vari interventi che ci sono stati, ha dato moltissimi spunti nell'ambito del Big Data e dell'intelligenza artificiale. Pensiamo per esempio a tutto il tema che diceva ieri l'assessore Lanzarin sul tema di capire come andare a inserire nuovo personale medico, nuove infrastrutture. Ecco, cioè, come si prende la decisione su queste tematiche, così come si prende sul tema clinico, effettivamente. Si prende andando ad analizzare tutta la moltitudine di dati presenti in questo momento nei nostri sistemi informativi. e l'unico modo per approcciare a questa moltitudine di dati e tirare fuori dei risultati che siano effettivamente contestualizzati con il caso d'uso e con la situazione in essere è andarle ad applicare con tecniche di intelligenza artificiale e altri strumenti affini per tirare fuori il vero dato necessario e il vero valore necessario per poi effettuare tutti i meccanismi di attuazione. Questo vale sul caso della logistica, vale nel caso dei clinici, nell'inserimento dei clinici, così come vale anche nel caso dei processi di cura. Noi come Almaviva stiamo lavorando e abbiamo lavorato su numerose tipologie di casi d'uso nell'ambito del trattamento delle patologie croniche attraverso proprio questa tipologia di sistemi. Un caso d'uso in particolare, abbiamo sviluppato una piattaforma big data completamente open source con il quale raccogliamo i dati della SST, in questo caso delle ASLA SST all'interno del Data Lake e sul quale andiamo... In Lombardia. In Lombardia, esatto. La SSTP Mercate è abbastanza conosciuto come caso d'uso e abbiamo sviluppato una serie di algoritmi predittivi nell'ambito della diabetologia, della nefrologia, dello scompenso cardiaco. Nello specifico, nell'ambito della diabetologia, andiamo a prevedere entro tre anni se ci saranno complicazioni legate al diabete su determinati organi del paziente, quindi basi sanguigni, reni, occhi, cuore. Nell'ambito della nefrologia andiamo a prevedere se un paziente in quale slot di tempo e se in quello slot di tempo passerà dallo stadio G4 alla dialisi, che poi se ci riflettiamo è anche un sistema di cura predittivo che ha un impatto sul processo decisionale del clinico ma come informazione si porta dietro anche contenuti di tipo logistico perché sapere che tutti i tuoi pazienti in un determinato periodo di tempo entreranno in uno stato di dialisi vuol dire anche essere in grado di attrezzare una struttura ospedaliera per supportare al meglio tutti i pazienti che devono fare la dialisi per il trattamento di dialisi che comunque, come ben sapete, è un trattamento che dal punto di vista logistico ha degli impatti nell'ambito ospedaliero si porta dietro occupazione di stanze, di macchinari quindi, ritorniamo un po' al discorso che dicevo cioè, tutte le decisioni che devono essere prese devono essere analizzate utilizzando la totalità dei dati e la totalità dell'output delle analisi dei dati che ne vengono fuori come in questa casistica poi tornando sempre allo scompenso cardiaco molto simile dal punto di vista tecnologico alla predizione del tempo entro quanto un paziente verrà ricoverato a causa dello scompenso cardiaco e stiamo approcciando anche a modelli predittivi per capire se un paziente che soffre di un paziente oncologico soffrirà di tossicità oncologica legata a quel trattamento terapeutico che è anche questo un caso che si porta dietro sia un supporto clinico di alto valore perché comunque una tossicità oncologica crea anche un blocco della terapia del paziente e quindi di conseguenza anche dal punto di vista etico morale e dal punto di vista clinico è un impatto molto molto forte tutto questo giusto per ricondurmi a un ulteriore spunto che aveva fatto prima la dottoressa rispettando tutti i principi di privacy perché come diceva è costruito GDPR by design già in fase di progettazione e stiamo approcciando anche al tema dell'etical AI e del trustworthy AI che non è soltanto riuscire a declinare dei sistemi di supporto alle decisioni che lavorano in maniera etica ma devono essere anche trasparenti e leggibili ossia io devo capire il clinico deve capire perché quell'algoritmo mi ha predetto in quel modo per quali parametri quello che si rientra un po' nel nome di explainable AI quindi l'algoritmo deve essere spiegabile il sistema deve essere leggibile chiaro sia dal punto di vista del clinico sia dal punto di vista del paziente quindi in sostanza se ho capito bene il clinico deve avere comunque la possibilità di interpretare a modo proprio non secondo quanto interpreta la macchina esattamente il clinico fa il lavoro di supervisione dell'algoritmo e diciamo l'algoritmo si comporta io lo dico il terzo occhio cioè ti dà un'ulteriore vista su quella che è un modello predittivo di quel paziente dopodiché interviene il clinico ovviamente col processo tradizionale di cura supervisiona di nuovo l'algoritmo quindi lo riaddestra costantemente ecco perché non può essere mai sostituito il clinico da un semplice algoritmo è una questione di di osmosi che c'è tra le due tra i tra la macchina e l'essere umano l'algoritmo non ha senso se non è addestrato se non è supportato se non è continuamente inserito e riproposto dal dal clinico stesso tutto questo inoltre giusto per concludere perché visto che l'aveva citato anche la collega nel nel video tutto integrato all'interno dei sistemi dei sistemi informativi già presenti in questo caso è il sistema di cartella clinica quindi quando l'operatore sanitario interagisce con cartella clinica inserendo i parametri del paziente riceve oltre che il classico ho salvato i dati anche i feedback del modello relativo al modello predittivo stesso allora grazie mille davvero molto interessante e passerei al relatore successivo ovvero Antonella Levante vicepresidente di IQ mentre arriva Antonella Levante volevo chiedere a Carmine Pinto se è collegato e se lo sentiamo in un minuto che cosa pensa che cosa pensa a proposito del algoritmo di intelligenza artificiale che può aiutarlo nel comprendere ad esempio nel caso di un oncologo se il farmaco o i farmaci saranno più o meno tossici Carmine Pinto cosa pensi ti aiuterà? allora in un minuto no perché l'intervento cerco di farlo in un paio il primo è che bisogna a mio avviso parlare dell'intelligenza artificiale all'interno di una strategia di scelte e decisioni voglio dire in cui sicuramente un elemento importante è quello che è rappresentato dalle linee guida delle raccomandazioni che vengono dai dati chiaramente dalla letteratura e delle pubblicazioni dati rilevanti invece da quella che può essere la pratica quotidiana e quello che ci può dare l'intelligenza artificiale in cui abbiamo la possibilità di inserire milioni di dati di pazienti che vengono dalle cartelle cliniche che vengono dal licensing tradizionale e permettono di dare scelte legate a quelle che sono i dati che abbiamo a disposizione quindi secondo me è una buona integrazione tra quello che viene portato quello che viene deciso che viene sviluppato da linee guida e dei dati che vengono dalle pratiche dalla pratica clinica altro elemento e qua mi fermo nel minuto che mi hai dato e che probabilmente questo ci darà anche una maggiore forza per quello che riguarda le sperimentazioni cliniche noi potremo in questo sistema di learning mettere migliaia e migliaia di dati provenienti dai pazienti che ci permetteranno coero i dati di poter dare risposte al mio avviso anche più adeguate grazie mille sei stato molto molto chiaro e a questo punto proseguirei ditemi Stefano Quintarelli lo sentiamo? io spero di sì ah buongiorno Stefano Quintarelli quindi se Antonio Levante sta con noi io vorrei sentire Stefano Quintarelli che sono un po' anni che non vedo e potrà illuminarci a proposito della sua visione della intelligenza artificiale Stefano Quintarelli membro del gruppo di esperti ad alto livello sull'intelligenza artificiale per la commissione UE quanti minuti parli? tutto quello che volete dai due minuti a cinque ore quindi non ho no farei una via di mezzo facciamo dieci dieci minuti sono sufficienti buongiorno intanto grazie per avermi invitato è un peccato mi dispiace molto non essere ad Asiago ricordo con grande piacere la volta che sono venuto e spero che ci siano occasioni in futuro allora dieci minuti io vi do il mio punto di vista che è un punto di vista chiaramente generalistico sono un informatico non sono non sono certamente un non sono certamente un medico quindi vi posso fare delle considerazioni delle considerazioni generali parto da questo perché è importante per arrivare poi al nocciolo giusto per essere sicuro che siamo tutti sulla stessa pagina quando noi pensiamo a un computer pensiamo a un oggetto fatto così un computer è un oggetto dove gli do in input un programma gli do in input dei dati e quello calcola un output e questa è la programmazione tradizionale l'intelligenza artificiale di oggi è una cosa diversa l'intelligenza artificiale di oggi è la capacità di fornire è basata sui dati è la capacità di fornire a un computer l'abilità la capacità di imparare imparare va inteso in senso non letterale ma è una metafora imparare ad applicare modelli statistici che non sono stati programmati in modo esplicito ci sono diversi algoritmi per fare questo su wikipedia ce ne sono 82 cosa vuol dire vuol dire che prendo un computer fisso alcuni parametri gli do impasto un po' di dati e quello mi tira fuori un modello statistico a questo punto questo modello statistico lo posso usare dando l'impasto di nuovo a un computer con dei nuovi dati e quello mi fa delle predizioni qui è molto importante capire la differenza tra calcolare un output e fare la predizione perché è qui il nocciolo della questione calcolare un output il risultato è sempre lo stesso fare una predizione è il risultato può variare perché c'è un modello statistico e la statistica non è precisa ora il modo semplice con cui io spiego queste cose in generale è questo se io vi chiedo domani il giorno successivo a questa foto che tempo c'era tutti voi mi rispondete bello perché perché rosso di sera del tempo si spera rosso di sera del tempo si spera è l'incarnazione del machine learning è stato osservato il mondo fissato i parametri che sono guardo a ovest alla sera e guardo il giorno dopo il meteo fissato i parametri raccolgo i dati e raccogliendo i dati poi costruisco un modello che esplicita la correlazione che ho trovato rosso di sera del tempo si spera non è sempre così ogni tanto c'è qualche variazione statistica perché la perturbazione invece di arrivare da occidente arriva da nord eccetera quindi si spera attenzione non mi interessa capire perché se c'è rosso poi ci sarà bello questa cosa è di solito così e mi va bene così ma la correlazione non è causalità non sempre quindi a volte troviamo delle correlazioni che sono asturie magari guardiamo e fissiamo i parametri e raccogliamo i dati in modo errato invece di guardare a ovest guardiamo a est alla sera qualche volta e allora non riusciamo a tirare fuori un modello efficace ma una volta che abbiamo un modello efficace possiamo usare quel modello per fare delle nuove predizioni ma le predizioni appunto come dicevo sono statistiche è stato citato poco fa l'explainable AI c'è tantissimo lavoro che viene fatto per cercare di fare in modo che le macchine possano darci una tra virgolette spiegazione del perché fanno una determinata predizione la verità è che siamo molto lontani da dare da questo da questo livello ammesso che ci raggiungiamo mai cioè l'umano a differenza della macchina la macchina costruisce modelli statistici l'umano impara questa è una differenza sostanziale noi impariamo anche da un solo esempio ti faccio vedere un gatto una volta se è capace di riconoscere il gatto una macchina ha bisogno di centinaia di migliaia di immagini di gatto e se poi gli passa davanti un gatto amputato di due zampe non è in grado di riconoscerlo a meno che non abbia avuto eccetera ora perché questo perché la macchina non ha coscienza di quello che sta facendo non sa di che cosa tratta quando elabora un'immagine non sa neanche che è un'immagine vede solo una sfilza di dati solo un vettore di dati e trova correlazioni all'interno di quel vettore di dati non ha la concezione di immagine non ha la concezione di esame istologico non ha nulla trova correlazioni all'interno di sequenze di dati punto ora e ogni tanto per costruzione i modelli statistici producono delle predizioni errate per questo non possiamo pensare alla macchina come in modo deterministico tradizionale la macchina funziona o non funziona se non funziona è difettosa e c'è una liability e poi ci sono i danni eccetera dobbiamo andare a vedere i dati caratteristici statistici chi di voi fa ricerca sa benissimo conosce benissimo i concetti di precisione recupero non possiamo dire che funziona in assoluto dobbiamo conoscere i suoi dati di precisione recupero è chiaro che il recupero è una cosa molto difficile cioè sapere di tutti i casi che gli sono stati esposti quanti ne ha effettivamente riconosciuti è un problema abbastanza complicato in determinati contesti adesso non posso dilungarmi troppo ed approfondire però è un problema abbastanza complicato quello che mi prende sottolineare è che intanto non capiamo perché la predizione viene fatta abbiamo centinaia di milioni di variabili e non siamo in grado di capire perché questa predizione viene fatta e di spiegare perché perché spiegare richiede una coscienza in qualche modo una capacità di comprendere quello che stiamo facendo avremo delle giustificazioni che non sono vere spiegazioni e le avremo tra molti anni e poi sono fatti statistici il fatto che siano statistici hanno delle implicazioni notevoli allora il fatto che siano fatte da macchine siano statistici siano sistemi statistici ha delle implicazioni notevoli ogni volta che noi tiriamo fuori da un uomo una funzione e la facciamo fare una macchina quella macchina la fa a una scala e a una velocità infinitamente superiore a quella di un uomo questo produce degli effetti la polizia aveva in Italia 50.000 cartellini fotosegnalettici perché quando devo cercare un ricercato più di 50.000 gli umani non riescono a cercare una volta che è stato digitalizzato hanno fatto la gara d'appalto per 100.000 poi hanno fatto un upgrade a un milione oggi l'ultima interrogazione parlamentare di un annetto fa dice che in Italia siamo passati da 50.000 cartellini a 9 milioni di persone fotosegnalate con 16 milioni di fotosegnalette e capite che qui perché semplicemente perché una volta che lo tolgo dall'ambito umano gli tolgo quei vincoli di scala e di dimensione questo avrà degli effetti avrà degli effetti un po' come probabilmente gli ha avuti l'automazione dei laboratori rispetto agli esami del sangue ne puoi fare infinitamente di più però questo ci pone degli altri problemi e il problema è quello che ho accennato poco fa è che un sistema non difettoso quindi un sistema perfetto fatto a regola d'arte in cui i dati sono stati raccolti magnificamente l'algoritmo è stato tuned perfettamente è stata fatta una validazione perfetta è tutto perfetto quel sistema produrrà delle predizioni errate il fatto di fare delle predizioni errate ci implica che non ci possiamo addormentare alla guida però è molto difficile nel caso del tecnico di laboratorio ha un sistema deterministico la mattina fa la taratura e quello produce io non so quante volte poi effettivamente di fronte a tre asterischi sulle piastrine venga rifatto l'esame perché per vedere se effettivamente è tre o quanto ci si figli della macchina è chiaro che qui l'incentivo della persona dell'operatore che userà questa macchina e usare la macchina non vuol dire solamente fargli fare le macchine fanno solo funzioni singole perché non sono generali quindi fanno una cosa molto velocemente e l'operatore che usa quella macchina avrà un incentivo implicito a confermare l'output della macchina perché se la macchina gli dice bianco e lui pensa che sia nero se poi effettivamente era bianco e lui ha detto nero gli diranno ecco vedi la macchina aveva detto bianco persino la macchina aveva detto bianco e tu hai detto nero viceversa se la macchina dice nero e lui pensa se la macchina dice bianco lui dice che sia bianco anche se pensa che sia nero dice non so questo è è una è una leucemia e quello non so è un tumore al seno è un tessuto tumorale la macchina gli dice di sì lui pensa di no però comunque avrà l'incentivo a confermare la predizione perché poi se si sbaglia qualcuno gli dirà quindi alla fine indurrà un cambiamento nei nostri comportamenti e io credo che questo proprio per il fatto di essere statistico questo credo che sia una delle grandi sfide che abbiamo come fare a mantenere non solo l'uomo che sopravvisiona il funzionamento della macchina ma l'uomo che entra in modo efficace e in qualche modo sgravarlo dalla responsabilità del fatto di fare una diagnosi diversa da quella proposta dalla macchina l'ultimissima cosa che voglio dire è questa dato che sono sistemi statistici noi non possiamo e questo a voi dovrebbe essere abbastanza come dire noto come cosa non possiamo dire con certezza quello funziona o non funziona alcune volte sì alcune volte no la stragrande maggioranza delle volte sì se il sistema è fatto bene però qualche volta invece produce delle predizioni errate allora non mi basta guardare il singolo caso devo guardare il complesso di casi per poter dire questo sistema funziona nel momento in cui uso un sistema di intelligenza artificiale distribuito in tutti gli ospedali italiani non mi basta limitarmi ai dieci casi in cui non ha funzionato all'ospedale di Asiago devo andare a vedere come si è comportato complessivamente perché poi magari semplicemente per sfortuna ad Asiago si è accumulato un po' di quelle predizioni errate quindi devo guardare l'insieme e questo ci porta a dover dire che dobbiamo avere un sistema dovremmo avere per applicazioni che hanno degli impatti rischiosi sulla vita delle persone dovremmo avere un organismo di sorveglianza di controllo al pari di quello che abbiamo per i farmaci se vogliamo in modo analogo a quello che abbiamo per i farmaci che considerino non il singolo caso ma l'insieme dei casi per poter dire questa roba funziona non funziona e quindi su questo sistema è responsabile il costruttore piuttosto che non è responsabile io quello che vi volevo dare erano veramente quattro flash e il quarto di problemi che emergeranno di questioni che dovremmo affrontare di istituzioni che dovremmo andare ad adeguare in qualche modo e l'ultimo caso l'ultima questione che non dobbiamo mai dimenticare è questa se voi guardate le immagini di sinistra da un classificatore di immagini sono classificate in modo corretto cioè questo qui è un dispenser di sapone questo è un insetto questo è un cagnolino se a queste immagini viene aggiunto il rumore che c'è qui in mezzo questi pixel di rumore che ci sono qua in mezzo otteniamo il risultato di destra il risultato di destra è impercettibilmente la differenza è impercettibile per noi però questo fa sì che il classificatore per tutti questi tre casi classifichi il sistema come struzzo questo perché all'interno mentre prima li classificava correttamente perché all'interno della rete neurale i vari pesi le varie configurazioni della rete per noi non hanno un significato come vi dicevo prima però è possibile andare e usare i computer per trovare il modo giusto di farlo andare a toccare dei punti all'interno di questa rete per andare per fare in modo che in determinate condizioni le predizioni vengano fatte in modo errato questo ci pone un grosso problema perché noi non siamo in grado di capire se un sistema è stato compromesso o meno quindi noi potremmo essere un giorno di fronte a una situazione per cui viene a curarsi il Presidente della Repubblica e nel caso del Presidente della Repubblica la macchina fa qualcosa di sbagliato dice qualcosa di sbagliato perché perché è stata manomessa in un modo che per noi è impercettibile e c'è molta ricerca su questi attacchi avversari il cartello in basso a destra perché chiaramente il fatto di potersi fidare della macchina è un fatto estremamente rilevante e non dobbiamo dimenticare appunto che anche tutta la catena di custodia colleghiamo la macchina internet e facciamo gli aggiornamenti via rete pericolosissimo dal punto di vista della sicurezza invece c'è molta ricerca su questa cosa per esempio per le auto a guida autonoma vedete il cartello in basso a destra il cartello di stop mettere quegli adesivi in quei punti lì è sufficiente per ingannare la rete neurale dell'auto a guida autonoma e fargli leggere quel cartello fargli tra virgolette interpretare quel cartello come limite di 70 miglia all'ora e voi capite che tra uno stop e 70 miglia all'ora c'è un po' di differenza insomma i problemi che abbiamo davanti sono tanti non bisogna scoraggiarci sono sistemi che amplificano amplificano tantissimo le nostre potenzialità che possono consentirci di fare di scalare di ordini di grandezza nella quantità di cose che facciamo dobbiamo tenere presente che sono macchine statistiche che quindi ogni tanto si sbagliano abbiamo un problema di come assicurare la vera responsabilizzazione del medico laddove si trovi in disaccordo con la predizione fatta dalla macchina dobbiamo considerare il fatto che non possiamo guardare alla singola macchina o dobbiamo guardare alle macchine nel loro complesso dobbiamo avere e quindi occorreranno delle istituzioni o delle organizzazioni di sorveglianza e magari anche di autorizzazione alla messa in commercio e dobbiamo tenere ben presente i temi di sicurezza informatica perché i temi di sicurezza informatica sono praticamente non rilevabili con questi sistemi e io con questo ho concluso e vi ringrazio spero si sia sentito in modo sufficiente beh si è sentito in modo sufficiente e ci ha anche un po' spaventato in modo sufficiente perché ci siamo detti tra noi che se tariamo appositamente male una macchina possiamo con grande facilità uccidere qualcuno utilizzando il medico e insomma non è il massimo dovremo apporre tutti i filtri necessari per evitare che questo accada insomma è una grande io a noi a Bruxelles abbiamo introdotto il concetto che non c'era in precedenza in letteratura del cosiddetto redress by design eravamo un gruppo di 50 persone da tutta Europa il principio di redress by design vuol dire così come c'è la privacy by design dobbiamo avere un modo concepito fin dall'inizio da quando introduciamo il sistema all'interno dell'organizzazione per poter rilevare e correggere eventuali predizioni errate che può voler dire ad esempio duplicazione di sistemi con algoritmi diversi che confermino le predizioni quando le due macchine sono in disaccordo a quel punto interviene il dottore per decidere comunque piuttosto che procedure alternative a campione per verificare per cui alcune cose le do la macchina altre invece le eseguo in un altro modo in modo tale da verificare un allineamento tra i sistemi e quindi eventualmente riconoscere che cominciano ad esserci delle devianze nei comportamenti perché poi c'è un problema ed è che in alcuni casi nel caso del cosiddetto online learning le macchine vengono continuamente aggiornate e continuano a evolvere i loro modelli sulla base dei nuovi dati e quindi potenzialmente possono anche divergere rispetto ai lati iniziali cioè i temi sono tanti però non dobbiamo scoraggiarci siamo tra le volette solo all'inizio è un nuovo modo di fare software che ci consente di affrontare problemi di percezione classificazione e predizione che prima non potevamo fare e avremo bisogno di aumentare le cautele vent'anni fa guardavamo solo agli antivirus adesso ci abbiamo il ransomware e quindi a nuove vulnerabilità nuove contromisure ma è indubbio che queste cose ci diano una potenzialità enorme non dobbiamo essere preoccupati ma solo occupati dobbiamo occuparcene questo grazie mille allora una piccola informazione di servizio poi do la parola Walter Locatelli informazione di servizio che per questo tavolo abbiamo fino alle undici e venti anche undici e venticinque quindi abbiamo conquistato un'altra ora abbondante intera ehm cosicché possiamo affrontare con i relatori importanti che abbiamo collegati e in sala adeguatamente questo tema anche perché il tema dell'aderenza che è il tema successivo occuperà un'ora e mezza grosso modo e quindi se iniziamo alle undici e mezza finiamo comunque a luna per cui stiamo perfettamente in tempo perché la sessione eh plenaria finisce a luna e mezza quindi diciamo eh niente paura che non siamo particolarmente in ritardo dobbiamo rispettare tutti i tempi ma nel rispetto dei tempi non siamo così in ritardo Walter vuoi commentare poi diamo parola a Antonella Levante commento i primi interventi di questa mattina credo che abbiano tutti portato una grande attenzione su una su un aspetto che la critica deve sempre accompagnarci critica intensa in senso positivo che non dobbiamo dare per assodato niente ed in particolare quello che ci viene fornito dalla tecnologia e dalle macchine l'ultimo intervento presuppone probabilmente per il futuro una maggiore contatto tra il mondo clinico e il mondo di chi detiene la capacità di gestire i dati perché potremmo trovarci di fronte a situazioni per cui alcune cose sembrano molto logiche faccio un esempio molto banale quando millenni fa un giudice doveva stabilire di chi era il figlio a un certo punto è mio è tuo beh tagliatelo a metà ecco non vorrei che la macchina nel suo rigore e quindi queste cose queste cose le dobbiamo conoscere molto bene così come un algoritmo che ha utilizzato il dottor Quintarelli il PLR suo nel mondo clinico c'è l'aspetto di sensibilità e specificità ma usiamo probabilmente formule simili e quindi questo vuol dire che ci dobbiamo parlare di più per trovare anche qui una semantica uguale per aspetti che ci coinvolgono reciprocamente comunque è molto molto interessante buongiorno a tutti ringrazio Giulia Motore Sanità e tutto lo staff per questi giorni finalmente anche in presenza perché gli stimoli sono sempre tanti tutte le volte alle evidenze che si porta si torna a casa con tantissime considerazioni da aggiungere e l'intervento che porterò oggi è un intervento che vorrei portasse a riflettere tutti i referenti istituzionali i decisori i prescrittori e le aziende sull'importanza di fare di fare il sistema e questo credo che sin da ieri e dal giorno prima è stato uno dei temi ricorrenti abbiamo tutti spesso la stessa visione il tema per questo paese a livello nazionale a livello regionale diventa poi l'implementazione quindi avere dei use cases dei tavoli che portano dei progetti a terra diventa poi un modo per accelerare un percorso che è un percorso non più di innovazione mi permetto di dire di rilevanza della nostra ricerca della nostra medicina di risposte ai nostri pazienti io ho portato qualche dato se la regia mi aiuta per metterlo a disposizione credo che possa poi essere utile per portare alcune evidenze anche nei comunicati stampa piuttosto che nei momenti in cui magari tecnicamente potremmo trovarci perché è correttissimo dire che abbiamo bisogno di vederci di più usare lo stesso linguaggio e capire quali sono le priorità la ricerca clinica in questo momento sta facendo un enorme percorso di ottimizzazione il 50% dei centri non raggiunge target di recrutamento ci sono importanti ritardi e questo chiaramente può avere una risposta enorme dalla possibilità di lavorare secondo una modalità che noi chiamiamo take in data enable perché non si raggiungono cifre più positive di recrutamento e di rispetto delle milestone perché la ricerca clinica va sempre più nella direzione della medicina di precisione il 45% degli studi clinici attivi in questo momento riguarda patologie rare oltre il 60% riguarda farmaci specialistici magari in terza linea di trattamento quindi è difficile trovare questi pazienti e se noi incominciamo a ragionare attraverso tecnologie dati e standard comuni e non parliamo di un singolo centro di ricerca non parliamo neanche più di una rete federata di centri di ricerca stiamo parlando di contesti di continente Europa che debbono imparare a ragionare secondo un modello federato e l'EMA si sta domandando come funzionerà l'European Data Space il tema è proprio quello di perdere competitività per i nostri ricercatori che sono straordinari nella capacità di pubblicazione di sviluppare delle ipotesi di ricerca e in Italia e questo lo posso dire come responsabile di tutte le progettualità di Real World Evidence e sempre più anche di ricerca clinica che utilizza dati di Real World in grave affanno il tema che è stato portato dall'avvocato del bilanciamento è un tema che deve portare all'attenzione di tutti quella che è il possibile quello che è l'opportunità persa anche per i pazienti di non entrare in studi clinici e anche un tema etico gli studi con comparator che hanno un braccio fatto da dati Real World consente di risolvere il problema in patologie grave che non hanno una risposta clinica già ad oggi disponibile di finire in un braccio a placebo quindi abbiamo bisogno in questo paese di fare di più di sederci a un tavolo ragionare su linee guida nuove sappiamo che su registri la ricerca osservazionale in Italia abbiamo bisogno da anni un aggiornamento la logica del consenso che sia trasparente comprensibile è assolutamente sposata da tutti nessuno vuole assumersi rischi o correre più di quello che il sistema può ma è importante che come sistema non perdiamo le opportunità guardiamo a quello che riguarda tutto il mondo della medicina di precisione del sequenziamento genomico le varianze sono sotto l'un per cento della popolazione e se questo lo aggiungiamo i biomarcatori è chiaro che bisogna per forza lavorare in ottica di big data in ottica di risposte a singoli casi pazienti spero che poi anche i Molecular Tumor Board in questa direzione aiutino tutti a lavorare mettendo in prossimità i ricercatori i data science e sicuramente tutto l'equip dei DPO e di chi si occupa di rispetto della privacy come dicevo il tema è di straordinaria importanza perché le metriche potrebbero migliorare in maniera straordinaria qui ho indicazioni medie di un miglioramento del 45% nel reclutamento pazienti per studi clinici stiamo parlando di pazienti che non hanno alternative in alcuni casi abbiamo visto che queste metriche possono andare all'80% se riusciamo a lavorare nell'ottica del reclutamento automatizzato e questi sono gli use cases che esistono in Italia purtroppo non applicabili nei paesi nordici purtroppo parliamo sempre dei soliti paesi l'Olanda la Danimarca il Benelux esistono piattaforme che parlano con quello che sono i sistemi sanitari le strutture che fanno ricerca consentono ai ricercatori di lavorare in ottica federata lavorano già nella direzione dell'European Dataspace che si sta cercando di finanziare anche con i fondi dell'Horizon 2020 in Italia stiamo facendo una straordinaria fatica e lo dico non come società di servizi ma come società che si mette in ascolto delle direzioni scientifiche e dei responsabili dei clinical trial center che loro stessi non riescono a trovare le soluzioni stanno ragionando sulle piattaforme come chiaramente il PNRR diventa un modo per poter accelerare e procedere chiaramente dobbiamo tutti aiutarci a stare nel sistema per definire quali sono i progetti cosa deve esserci in un data lake come garantire che il data lake sia vissuto dai cittadini in maniera positiva e non come una minaccia rispetto a tutto quel tema che si diceva prima di grandissima sensibilità di dati perché stiamo parlando di pazienti non soltanto con cronicità comuni ma spesso con patologie rare che quindi potrebbero essere chiaramente oggetti di segregazione anche sanitaria il 20% degli studi clinici già oggi include dati di real world capite cosa vuol dire non essere dentro questo sistema perché non riusciamo ad avere dati con latenza adeguata con granularità adeguata con certificazione del dato clinico che non è il dato sanitario i flussi ci sono quello che in realtà il problema è il dato clinico che serve per prendere decisioni e questo poi ci porta a tutto quello che è l'agenda sanitaria il collega di Almaviva ha già citato gli use cases che sono attivi noi stiamo lavorando più sul fronte della clinica stiamo lavorando sulla radiomica la possibilità di fornire alle strutture diagnostiche e ai medici quelle che sono delle raccomandazioni sulla stratificazione del rischio la possibilità di progressione pensiamo al mondo dell'Alzheimer ora c'è un'opzione terapeutica bisogna essere sicuri che i pazienti e i medici abbiano la possibilità di leggere grandi dati e aggiungo come oggetto di riflessione anche per di nuovo il nostro stato le regioni esistono adesso con la nuova normativa dei medical device la possibilità di certificare gli algoritmi di mettere in concorrenza gli algoritmi per essere sicuri che poi le scelte siano guidate motivate e portino veramente anche ad una risposta di sostenibilità economica poter anticipare la diagnosi ad oggi sulle patologie rare stiamo parlando di sette anni per arrivare ad una diagnosi se potessimo accelerare questi sette anni a tre probabilmente daremmo delle risposte cliniche probabilmente eviteremmo di portare pazienti a situazioni di grandissima acuzie eventualmente poi non avere una risposta clinica e quindi quello che voglio dare come messaggio di società di servizi che lavora moltissimo con l'industria è che ci sentiamo parte di un sistema e ci rendiamo conto che c'è un tema di sostenibilità ma c'è anche un'opportunità di lavorare in ottica di partnership pubblico privato e credo che i fondi di PNR con l'esigenza e la gravissima carenza delle competenze i data science non ci sono l'università fa fatica a formarli quindi poter mettere insieme l'industria e il pubblico lasciando assolutamente al pubblico l'assoluta libertà di definire quali sono i progetti rilevanti su cui rilevare sarebbe un grandissimo vantaggio per questo paese cito esempi in cui queste cose si fanno e non sono esempi di nuovo soltanto legati ai paesi nordici in Francia lo Human Data Hub che è stato istituito da Macron attraverso un team di tecnici che lavorano nel pubblico che lavorano nei ministeri ha però aperto la strada al privato perché la tecnologia la velocità di innovazione della tecnologia chiaramente richiede dei consorsi che lavorano in questo modo stessa cosa ora verrà sul cloud questo è il posizionamento del nostro paese quando ho visto la slide non potevo crederci mi sembrava troppo rosea la mia lettura è che come paese abbiamo fatto moltissimo nel definire linee guide libri bianchi indicazioni quello che su cui siamo carenti quindi questa è la mia chiamata se è possibile definire i tavoli tecnici motori di sanità è bravissimo in questo a chiamare poi per definire delle progettualità dobbiamo lavorare sull'implementazione dobbiamo lavorare sugli use cases dobbiamo lavorare su degli esempi caso di mercato o altri che possano dimostrare che si può fare che si può fare bene si può fare con i giusti bilanciamenti si può dare un vantaggio concreto ai pazienti ai decisori e a chi adesso deve lavorare sulla pianificazione e sui fondi l'ultima slide ma questo è in realtà l'oggetto del tavolo quindi lo lascio semplicemente per i moderatori il tema vero non è a questo punto la tecnologia non sono gli algoritmi ci sono il tema è la governance dei dati e della sicurezza nel trattamento dei dati l'interoperabilità la cartella elettronica esiste già è già implementata nella maggior parte delle regioni il tema è quali sono gli standard con quali dati con quali semantica con quale ontologia perché questo poi consente veramente di creare il data lake nazionale qui mi fermo perché credo che sono i temi che poi Giulia riprenderà grazie mille Antonella Levante e mentre tu utilizza gli spunti io chiamo Matteo Moscatelli Cantri Esbri Eltre e MSD mi piaceva soffermarmi su uno la certificazione dei dati la curatezza dei dati è un lavoro magari certosino che dovremmo impegnarci a fare da tutti i due i versanti io ribadisco che un maggior coinvolgimento tra la parte clinica e la parte tecnologica sia fondamentale per garantire i dati ma dobbiamo anche dare certezza al cittadino il cittadino che entra in questi percorsi in particolare patologie rare situazioni quindi anche molto molto delicate deve essere sicuro del trattamento dei propri dati e non è tutto così pacifico abbiamo assistito in questi mesi alla violazione di dati sanitari in ambienti quindi la sicurezza e la certificazione dei dati deve essere un tema che deve essere messo proprio all'ordine del giorno e dobbiamo garantire il cittadino di questo perché altrimenti rischiamo di fare meno strada di quello che si può fare grazie ok grazie cerco di stare nei tempi visto che recuperiamo un attimo allora io volevo fare però un passo indietro nel senso che oggi stiamo parlando di piccoli sperimentazioni che hanno valore però se andiamo a ragionare sul discorso degli investimenti PNRR abbiamo un problema perché dobbiamo fare un ragionamento a larga scala la prima cosa per utilizzare sistemi di intelligenza predittiva algoritmi forse il passo indietro è capire a che punto siamo a livello di infrastrutture come ben sapete quando si parla di big data e si parla di dati ma questi dati devono avere alcune caratteristiche fondamentali per essere utilizzati a oggi come sappiamo faccio un'analisi generale partendo da analisi di dati bancari telco e poi andiamo su sanitario che è ancora peggio perché è partito dopo però oggi servono qualità dato di essere omogeneo di essere distribuito cosa che per fare questo serve un'infrastruttura e come sapete le infrastrutture in ambiente sanitario non sono attuali sono abbastanza vetuste questo genera problemi perché possiamo fare il progetto più bello al mondo ma se poi l'infrastruttura non supporta il dato questo va a morire perciò cosa bisogna fare nella mia esperienza in altri settori quello che è importante oltre a digital transformation che vuol dire il cambio tecnologico il cambio di passo pensiamo anche il cambio di utilizzo di un telefonino o smartphone anche nella tecnologia questo avviene e sta avvenendo purtroppo in modo lento ma il problema più grave è il cambiamento culturale che ci deve essere a oggi se stiamo pensando al digitale ma sappiamo benissimo che in in tutta Italia usiamo ancora la carta e pensare di fare algoritmi predittivi sulla carta è una cosa infattibile se ci pensate dunque su questo dobbiamo iniziare a cambiare un po' l'approccio perciò iniziare a pensare che il cloud non è il demonio che la privacy si può gestire piuttosto che nell'ambiente sanitario iniziare a pensare a quello che sono i dispositivi detti IoT ok adesso ci sono gli IoT a livello medicale perciò è un pochino c'è questo cambio uno dei sostanzialmente progetti per poter supportare questo cambiamento questa digital transformation potrebbe essere come suggerito dai colleghi prima il discorso di una partnership a stretto giro pubblico privato per dare tecnologia dal privato ma know how e concentrare quello che è l'esigenza sul determinato settore al pubblico questo è uno dei diciamo dei driver che dovrebbe spingere logicamente per poter settare forse è stato accennato prima il discorso di quello che è il valore del dato bisogna settare anche una catena di valori a me piace pensare il fatto di dire quando noi iniziamo a pensare al paziente all'infrastruttura ai medici alle farmacie mettere tutto a fattore comune ma a fattore comune con l'infrastruttura ben definita perciò deve esserci un dispositivo medico l'infrastruttura deve avere delle caratteristiche le app che utilizziamo tutti i giorni devono avere delle caratteristiche e anche gli operatori l'interfaccia devono avere delle caratteristiche se tutto questo è definito da un concetto di il software diventa un dispositivo medico vuol dire che ha superato degli standard e la qualità del dato può essere utilizzato a livello clinico altrimenti si utilizzano delle app che magari impropriamente utilizzano dati ma se io sono un medico dall'altra parte e devo fare un referto non ho la garanzia che questo dato è validato a livello clinico e paraleticamente prenderei sostanzialmente una responsabilità senza volerlo e questo è un grosso limite oggi perché logicamente tutti con l'investimento sulla sanità si stanno buttando in questo settore però magari senza una storia medica una storia clinica che valida questo dato e questo secondo me è uno degli oggetti da andare a esaminare e a livello qualitativo utilizzare perché come vi dicevo prima la privacy non è un demonio ma se a fin fine io ho un dato non tanto chiaro probabilmente gestire un rapporto con la privacy diventa veramente impossibile l'assunzione di responsabilità è veramente difficile da gestire tornando a noi cosa ha sostanzialmente sviluppato e fatto emergere la pandemia aumento di dati incremento di difficoltà di interazione con le persone cambio di metodologia di strumenti perché oggi è cambiato il mondo lo vogliamo o no ma l'interazione con le persone paziente è cambiato questo che cosa ha fatto un plus sull'ottica di innovazione digital transformation ma dall'altra parte ha anche fatto emergere buchi buchi dati dalla magari tecnologia non all'ultimo grido non in linea col mercato se vedete negli ultimi anni e mezzo il discorso di attacchi informatici ransom e via dicendo nel mondo della sanità non dico tutti i giorni ma settimanalmente arriva una notizia che un hacker avvicato sono stati venduti dati clinici e cose di questo tipo perciò probabilmente bisogna lavorare su quel settore una delle cose che stiamo facendo in azienda è concentrarsi su quelle che sono la gestione dell'individuo sulle 4P perciò prevenzione predizione personalizzazione e partecipazione perché una cosa che abbiamo notato è che magari infrastrutture ci sono i sistemi ci sono ma se non c'è interazione col paziente perché magari l'utilizzo dell'infrastruttura del software è complicato tutto va a cadere perché oggi quello che si sta facendo è telemonitoraggio teleconsulto perciò il dato che si va a prendere non è all'interno degli ospedali con magari macchinari medici o processi definiti si prendono dati dall'esterno non che è la classica diciamo smart health il fatto di andare verso il cittadino verso i pazienti però se non c'è la struttura come vi dicevo prima dal medical device al software tutto certificato e soprattutto la app piuttosto che l'interfaccia non è user friendly e non c'è l'utilizzo tutto questo va a cadere e non ho il dato dunque quello che questo dovrebbe far emergere sostanzialmente è un miglioramento dei dati qualitativo una partecipazione perciò una mole di dati maggiori la gestione della paralisi interattiva col paziente di conseguenza il paziente può utilizzare tutto quello che è il suo dato e decidere se condividerlo o no per un servizio maggiore qualitativo facendo tutti questi step sostanzialmente si riesce a creare quello network e un network diciamo nazionale magari in futuro internazionale perché oggi noi parliamo sempre di sanità ma ogni regione ragiona col suo protocollo ogni forse ogni ospedale ha la sua soluzione magari anche bella ma se non sono interconnesse inter cioè i dati non passano da un'altra struttura all'altra il valore di analisi statistico che accennava prima il professore Puntarelli va a morire perché non c'è qualità del diciamo del dato e soprattutto non c'è una mole sufficiente per fare acquisizione dunque noi cosa stiamo cercando di fare strutturare 10 minuti va bene ora finisco concludo grazie è quello sostanzialmente di utilizzare tutto quello che è intelligenza artificiale con tutti gli algoritmi per interpolare tutti i dati e soprattutto la nostra mission sulla parte di oncologia cercare di sfruttare l'intelligenza artificiale per avere l'aderenza terapeutica e fare l'attività predittiva in maniera più strutturata scusate sono andato lungo no no ma è molto interessante mi ero ripromessa di non commentare ma in oncologia aderenza terapeutica ti chiediamo di rimanere anche per il tavolo successivo che proprio è relativo all'oncologia e dunque approfondiremo questo tema mentre lui commenta io chiamo Siemens molto importanti le 4P sicuramente anche l'aspetto del network e della abitudine a lavorare a silos che abbiamo un po' tutti è un aspetto molto importante io credo che molti possano utilizzare bene questo esempio registro tumori per dovrebbe essere un fatto molto semplice oggi bene non è così ma perché vi sono criteri di classificazione in alcuni ambiti con cui si costruisce e questo registro tumori che sono diversi e quindi rischiamo di avere il rigore dei dati quindi l'omogeneizzazione e il parlarci di più con riconoscimento reciproco delle varie professionalità sono la chiave di volta per rispondere velocemente ai bisogni del futuro allora per darci delle tempistiche chiedo a Patrizia Palazzi come ho chiesto a tutti con scarsissimo successo di essere brevi e poi chiederei alle tre persone appartenenti all'istituzione quindi a David Bannozzi a Francesco Gabrielli a Mauro Bonin di raggiungerci al tavolo così commentiamo diciamo così facendo gli interventi e un po' a modello tavola rotonda quanto il privato in Italia direi molto efficacemente sta svolgendo con diverse sfaccettature su questi temi buongiorno a tutti io ho il supporto di alcune slide grazie allora vi vorrei parlare oggi di un'applicazione particolare di Big Data ed Artificial Intelligence che è il Digital Twin ovvero l'utilizzo diciamo di un gemello digitale in ambito sanità questa tecnologia può essere utilizzata in vari processi nell'ambito del supporto alla progettazione nella gestione dei processi operativi e anche vedremo nella pratica clinica allora diciamo che il primo esempio di applicazione del Digital Twin è quello dell'ambito della progettazione nell'ambito della progettazione sostanzialmente la tecnologia Digital Twin è una tecnologia diciamo matura nell'industria 4.0 dove vengono creati dei modelli che servono per sostanzialmente il monitoraggio e l'ottimizzazione dei processi mentre è un'applicazione molto recente in ambito sanità come funziona sostanzialmente il Digital Twin il Digital Twin viene alimentato appunto da tutta una serie di dati e di informazioni vengono raccolte diciamo i dati relativi alla alle strutture da progettare quindi stiamo parlando di reparti ma anche di strutture ospedaliere intere e questi dati sono relativi alla disposizione degli spazi quindi ai layout ai percorsi che i pazienti e gli operatori fanno all'interno degli spazi a tutti i parametri che si possono raccogliere in termini di attività svolta all'interno di questi spazi naturalmente la tipologia anche di pazienti che accedono alla struttura nonché a tutti quei dati che provengono da sistemi informativi già presenti nelle strutture questi dati vanno ad alimentare il modello della struttura stessa che permette di fare una simulazione del comportamento della struttura e ancora più prezioso permette di fare delle analisi predittive quindi andando a modificare sostanzialmente i parametri del comportamento nella simulazione virtuale è possibile predire come il modello si comporterà a fronte di scenari diversi questo è particolarmente utile per valutare i cosiddetti stress test si pensi ad esempio all'eccessivo numero di accessi in pronto soccorso che si è avuto in epoca di pandemia ecco il modello del digital twin può aiutare a prevedere come il sistema si comporterebbe e quindi andare poi ad effettuare delle ottimizzazioni sul sistema stesso l'obiettivo è quello di creare sostanzialmente delle strutture ma anche di riorganizzare delle strutture esistenti nell'ottica di migliorare l'esperienza del paziente ma anche la soddisfazione dello staff e l'efficienza clinica io qui vi ho portato un esempio reale di quello che può essere l'applicazione del digital twin all'interno di un dipartimento di diagnostica per immagini allora il digital twin funziona praticamente su quattro dimensioni le tre dimensioni spaziali più la dimensione temporale e permette di costituire di ricostruire virtualmente tutti gli spazi della struttura le risorse tecnologiche della struttura ovviamente lo staff quindi la presenza dello staff all'interno della struttura e il percorso che il paziente fa all'interno appunto del reparto come vedete diciamo la simulazione consente di monitorare nel tempo il comportamento del processo e quindi poi come dicevo andando a modificarne i parametri anche di predire il comportamento del modello in scenari diversi l'obiettivo è quello di andare ad ottimizzare i processi stessi a complemento diciamo e ad integrazione dei dati che provengono dal modello virtuale possono essere utilizzati dei sistemi di controllo nella realtà perché in sostanza il digital twin non è nient'altro che uno strumento che mette in connessione il mondo virtuale con il mondo reale questi sistemi si chiamano real time location system sono una fonte di dati in movimento e funzionano sostanzialmente apponendo dei tag agli asset mobili all'interno della struttura questo dà un aiuto allo staff nella individuazione e gestione di questi asset nonché ovviamente anche un controllo sull'eventuale diciamo utilizzo non proprio degli asset stessi e poi ci sono anche dei gateway fissi che vengono utilizzati da questi sistemi che aiutano e coadiuvano nella navigazione all'interno della struttura i pazienti e i visitatori la raccolta di questi dati in movimento è un'informazione importantissima di controllo rispetto agli esiti della simulazione che viene fatta con il digital qui il digital twin tutto questo naturalmente nell'ottica di un monitoraggio continuo dell'ottimizzazione dei processi un ulteriore ambito di applicazione del digital twin che vede diciamo un ruolo importantissimo qui dell'intelligenza artificiale è la creazione di un modello biofisiologico personalizzato del paziente come funziona sostanzialmente vengono utilizzati degli algoritmi di deep learning che diciamo vengono allenati come abbiamo visto come ci ha spiegato il professor Quintarelli vengono allenati con un'enorme quantità di dati clinici dati di diagnostica per immagini di laboratorio di genomica sulla storia clinica del paziente questi algoritmi restituiscono diciamo delle parti del modello che poi vanno ad essere composte per creare il modello biofisiologico della persona vediamo un'applicazione però pratica poi nella pratica clinica di questo modello come azienda stiamo già lavorando sulla creazione di digital twin a supporto di trattamenti personalizzati dove vengono effettuate delle simulazioni virtuali in merito ai trattamenti terapeutici per valutarne i risultati e l'efficacia qui vediamo rappresentato sostanzialmente un modello computazionale del muscolo cardiaco quindi una rappresentazione del funzionamento a cui poi possono essere applicate anche delle simulazioni sulla esiti di trattamenti quindi possono essere ad esempio trattamenti di elettrofisiologia piuttosto che di cardiologia interventistica proprio per diventare diciamo uno strumento prezioso a supporto della decisione in merito alla diciamo tipologia del trattamento più efficace da effettuare poi sul paziente io vi ringrazio ringrazio io te sei stata nei nove minuti che questa mattina è praticamente un miracolo anche con temi estremamente interessanti lascio il commento a Walter Locatelli io chiamo al tavolo Mauro Bonin Francesco Gabrielli e David Vannozzi se siete tutti in sala eccoci grazie mille direi che le esperienze quanto ci è stato presentato consente cerco di semplificare un efficientamento di tutti i percorsi di cura e un aspetto particolare i nostri pazienti non si perdono più nei meandri della nostra logistica quindi sicuramente è un esempio molto molto importante buongiorno eccoci qua buongiorno il dottor Bonin ci racconterà la situazione Veneta ma diciamo faremo anche il punto su tutto quanto ci siamo detti buongiorno finalmente ci vediamo dopo un anno direi di persona che piacere rivederci e con invece il professor Gabrielli ci siamo visti un po' in questi giorni quindi è stato un piacere prolungato da ieri diciamo che ci siamo potuti parlare di un po' di tutto allora mi pare che possiamo certamente fare i nostri interventi ma certamente sviluppare anche una tavola rotonda per questo vi ho chiesto anche se diciamo le distanze ci impongono di stare un po' lontani gli uni dagli altri vi ho chiesto di partecipare tutti al tavolo perché secondo me le esperienze dei privati sono molto interessanti e direi che ci autogestiamo una mezz'oretta chiedo agli esponenti del tavolo successivo ovvero quello sul Molecular Tumor Board e sull'innovazione Disruptive se possono rimanere con noi e commentare Luigi Bertinato è qua e farà la relazione sull'ospedale del futuro diciamo così vogliamo vedere anche la relazione di Bertinato sull'ospedale del futuro e poi commentare che dite sì se hai voglia Bertinato ti teniamo in piedi l'unica cosa perché non abbiamo oppure aggiungiamo una sedia qua aggiungiamo una sedia qua ragazzi mettiamo un po' lontano e via ti do il microfono così vediamo tutte le relazioni e possiamo commentare anche l'ospedale del futuro grazie dove posso mettermi qui va bene va bene va bene va bene va bene allora grazie posso avere la prima diapositiva ah sì meglio meglio certo acceso sì questo ottimo vediamo è un successo perfetto due summer school fa quindi prima della pandemia abbiamo parlato di ospedale virtuale ho parlato di ospedale virtuale all'interno dell'ospedale del futuro e ho presentato l'ospedale Chesterfield che c'è nel Missouri 2400 pazienti seguiti a casa con una cabina di regia e ovviamente con tutta la tecnologia che permette che permette di avere di avere ambulatori virtuali ricoveri virtuali e ricoveri a domicilio sto parlando di 2400 pazienti due summer school fa lo ripresento oggi non perché sia cambiato l'ospedale virtuale di Chesterfield ma perché secondo me è cambiato il nostro sguardo verso l'ospedale virtuale alla luce della pandemia perché se due summer school fa lo guardavamo dicendo sì bella esperienza interessante eccetera diciamo che adesso se l'avessimo avuto dopo durante e dopo in questa fase della pandemia probabilmente l'atteggiamento di attenzione verso il paziente covid positivo poteva essere di maggiore successo di maggiore successo ovviamente visto quello che è successo nel rapporto fra ospedale e territorio e quindi lo ripresento solamente per rivederlo con come lezione appresa cosa è successo poi perfetto che gli architetti olandesi hanno anche loro riletto l'ospedale alla luce della pandemia nel padiglione olandese che c'è alla Biennale di Venezia in questo periodo fanno vedere l'ospedale mettendolo come un teatro un teatro nel senso che e l'abbiamo visto durante la pandemia cambia ma si mantiene la struttura cioè è un teatro ma cambia la scena in pochissimo tempo abbiamo visto reparti di ortopedia che sono diventati reparti covid abbiamo visto ospedali generali che sono diventati ospedali covid abbiamo visto nascere le USCA ecco perché l'idea dell'ospedale che sta cambiando è anche quella di un palcoscenico che come nel teatro cambia a seconda delle esigenze e l'abbiamo visto durante questa pandemia peraltro quello che ci viene incontro è la missione del PNRR dove si cerca di parlare di medicina di prossimità e quindi qui sta molto molto interessante il concetto di ospedale virtuale e medicina di prossimità perfetto nel frattempo da prima della pandemia la tecnologia robotica minimale mini invasiva ci aveva dato anche delle grandi opportunità che però sempre con lo sguardo prima della pandemia erano per gli ospedali universitari quelli sofisticati quelli che hanno riuscito a trovare i finanziamenti eccetera soprattutto l'ospedalità privata e sempre prima della pandemia guardate in questa immagine il neurochirurgo dell'ospedale universitario di Rotterdam aveva il Da Vinci con cui operava Rotterdam ma aveva una convenzione con l'ospedale neurochirurgico di Shanghai a circa 9000 chilometri e lui da Rotterdam probabilmente vestito in uniforme da sala operatoria o probabilmente vestito con una maglietta normale operava a Shanghai tutto questo grazie alla tecnologia grazie a Big Data grazie al Machine Learning e tutto questo era possibile prima della pandemia si tratta di capire se dopo la pandemia queste opportunità molto vicine a quello che è l'ospedale virtuale possono essere riviste con maggiore interesse con diverso interesse sempre prima della pandemia Google ha sviluppato gli smart glasses e sul tavolo operatorio non c'è più bisogno di tanta attrezzatura perché tramite l'occhiale Google abbiamo tutti i parametri a vista addosso e anche la sicurezza del paziente oltre che la tecnologia è aumentata in maniera importante sempre prima della pandemia la stampa 3D di organi eccetera era già sviluppata e dopo la pandemia continua a essere in campo biomedico una delle tecnologie interessanti e la cosa interessante è che nella immagine in basso a destra vedete l'ospedale di Wuhan da cui tutto è cominciato che è con un reparto interamente gestito da un robot tutto questo è l'ultima diapositiva che ho per dire le seguenti cose credo che guardare l'ospedale virtuale con come lezione appresa dalla pandemia possa essere di maggiore interesse che guardarlo in maniera fredda come interessante come modello di tecnologia avanzata di sperimentazione avanzata eccetera perché ne avremmo avuto bisogno dal mio punto di vista e se non ne siamo ancora convinti magari perché costa io questi vi posso incalzare dicendo sì può costare però la domanda è soprattutto qui in sala quanto vi è costato la riorganizzazione veloce di un reparto covid di un ospedale covid il procurement veloce quanto vi è costato un'altra cosa interessante è che alla luce delle lezioni apprese che ruolo può avere non solo l'ospedale virtuale ma l'ospedale nella città di Bergamo durante la prima ondata 6.000 pazienti sono stati trattati con ossigenoterapia domiciliare e non tanto da personale sanitario ma dai volontari che li portavano a bombola anche questa è una lezione interessante è virtuale è ospedale virtuale è ospedale reale è una grande lezione secondo me appresa e l'ultima lezione appresa è questa è chiaro che per il tema del programmatore che cosa possiamo i big data come possono aiutare il programmatore a fare il suo mestiere e ad avere soprattutto la visione di quello che sarà la sanità nei prossimi anni e attaccato a questo c'è il tema delle competenze quali competenze necessita il programmatore attorno a sé per utilizzare al meglio questa nuova offerta di tecnologia e capire quanto è importante sto parlando per capirci dei programmatori delle 21 regioni dei programmatori delle 110 aziende sanitarie che hanno anche il territorio sto parlando dei programmatori all'interno dei 1077 ospedali italiani come la tecnologia può essere a supporto di chi fa programmazione affinché abbiano una corretta visione di tutto questo e quindi il tema che pongo ai colleghi eccetera è vedere come tutto quello che il privato ci offre tutto quello che anche l'esperienza del pubblico ci offre come può essere tradotto in un supporto alla visione dell'utilizzo della tecnologia in campo sanitario nell'ospedale virtuale nell'ospedale reale ma anche in questo nuovo rapporto che una volta si chiama di integrazione si chiamava di integrazione ospedale territorio ma che adesso si dovrebbe chiamare di integrazione tra la robotica dell'ospedale e la domotica del territorio grazie grazie mille e direi direi anche che deve integrarsi con la cura domiciliare perché forse la sfida futura è proprio l'home care e lo scopriremo penso in questo tavolo allora partiamo da Pannozzi hai il microfono qua hai delle slide no così per fare più rapidamente posso anche parlare senza slide allora io ah sì allora ecco potete sì 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 vabbè sto seduto allora prima di tutto sì noi come sapete siamo a cavallo fra il pubblico e il privato siamo un consorzio privato di soggetti pubblici per cui la legge ci fa ci assimila ai ai pubblici per cui il nostro è un'esperienza di tecnologia di modelli di applicazione che viene dal mondo della pubblica amministrazione per cui direi un unicum abbastanza nel anche all'estero veniamo visti un po' come una cosa molto particolare allora big data e intelligenza artificiale la prima cosa che mi viene di dire tutti ne parlano cioè oramai in tutti i settori non si parla d'altro in sanità in questo momento è il momento d'oro perché c'è il boom di questi concetti teniamo conto per chi avesse dubbi perché poi quando si applicano le tecnologie è un po' come con i vaccini vengono fuori i novax da ogni strada teniamo conto che in alcuni settori big data analisi di big data intelligenza artificiale senza saperlo è 30 anni che vengono usati pensate al meteo il meteo è oramai se ci pensate alla previsione del tempo 30 anni fa tu guardavi il colonnello Bernacca che diceva domani forse piove oggi ti dicono domani alle 10 e 24 verrà un temporale tutto questo è dato da macchine computer ad altre prestazioni tecniche di big data management algoritmi di intelligenza artificiale che vanno a fare delle simulazioni multifattoriali che consentono di poter individuare quella che è la previsione principale qual è la differenza dice subito qualche medico cavolo ma se l'algoritmo di intelligenza artificiale sbaglia a curare un paziente quello muore e io dico ma se il super computer sbaglia a prevedere i metri di acqua che verranno buttati sul territorio muoiono vedete no i cataclismi per cui non c'è grossa differenza che cosa fa cosa ecco perché pensiamo un attimo torniamo un attimo indietro cosa fanno i big data cosa ci consentono di fare big data e cosa fa all'intelligenza artificiale consentono di fornire risposte veloci a problemi ripetitivi e io faccio sempre questo esempio quando parlo in consessi sanitari quando purtroppo qualcuno di noi in famiglia è capitato a tutti abbiamo problemi gravi di solito comincia il giorno di telefonata e si dice chi è il più bravo e si va da più bravo il più bravo poi si scopre che è messo in delle reti che hanno dei protocolli e cosa fa il protocollo il protocollo per esempio in Molecola Tumor Board prima ho sentito è un altro progetto Cineca che abbiamo sviluppato cosa fanno questi protocolli mettono i dati in comune si fanno delle banche dati il più grandi possibile e da queste banche dati vengono attinte delle informazioni per andare a individuare delle somiglianze che consentono di applicare lo stesso protocollo di cura e questi protocolli come gli algoritmi migliorano nel tempo cioè dopo un anno hanno una percentuale di successo dopo due più alta dopo tre più alta dopo quattro più alta il big data management gli algoritmi di intelligenza artificiale fanno questo ma lo fanno a una velocità impressionante la macchina di super computer che sta presso il Cineca tanto per dirvi consente di fare duecentocinquanta milioni di miliardi di operazioni al secondo quando l'abbiamo usata per individuare il farmaco che è stato il primo farmaco al mondo che è stato usato in una lotta al covid avevamo una banca dati degli esperimenti dei laboratori di ricerca di tutto il mondo che aveva cinquecento milioni di esperimenti cinquecento milioni di esperimenti chi ha fatto ricerca lo sa sono dati sono centinaia di dati lì dentro per cui cominciate a pensare cinquecento milioni per cento e quant'altro avevamo la sequenza del virus cosa abbiamo fatto con il supercontore abbiamo passato la sequenza del virus con gli esperimenti per andare a vedere se da qualche parte in qualche laboratorio del mondo qualcuno aveva trovato qualcosa che andava a impattare sul meccanismo di simulazione di proliferazione del virus e questo è stato fatto a botte di un triliardo di operazioni di confronto al secondo questo ha fatto sì che in un mese e mezzo è stata passata tutta la banca dati sono state individuate dieci molecole è stato fatto il test prima in laboratorio poi in vivo e a ottobre è stato individuato il farmaco che per le situazioni iniziali di covid aveva una probabilità di successo altissima nel risolvere il problema l'autorità europea e l'IFE hanno autorizzato il second use perché fortunatamente era un farmaco che era già in commercio e che serviva per tutte altre cose e per cui ed è nato ecco per cui grandi masse di dati da analizzare e bisogna fornire informazioni in tempo rapido a cosa può servire queste cose qui può servire all'attività di pianificazione sanitaria di programmazione sanitaria di prevenzione di miglioramento dei percorsi di cura e e pertanto che cosa ha fatto Cineca il ministero dell'università della ricerca con il ministero della salute hanno fatto un protocollo dove Cineca è il firmatario del protocollo che all'interno del PNRR c'è il progetto per la creazione di un data lake nazionale a cosa serve il data lake nazionale chi chi lavora nelle regioni quando presenta sta cosa gli si rizzano i capelli l'ho detto alla fiorentina perché dice ma come la costituzione quant'altro la costituzione ci siamo fortemente documentati ha riservato alle regioni le attività di prevenzione e cura ha riservato allo Stato le attività di pianificazione e di programmazione sanitaria come deve essere la pandemia l'ha messo in campo non è che il virus vede i confini fra le regioni lui neanche quello fra gli stati lui si muove per cui io lo dissi l'anno scorso quando abbiamo fatto le prime simulazioni sui dati del pronto soccorso lo dissi ad aprile qualora avessimo avuto i dati di tutti i pronto soccorsi italiani in rete in linea a livello nazionale e diciamo in tempo reale alla fine di settembre ci saremmo accorti che c'era qualcosa di strano probabilmente nessuno di noi sarebbe stato in grado di dire cosa c'era perché il covid era una cosa sconosciuta però che c'era qualche situazione che era mai vista nei 50 anni precedenti eravamo in grado di dirlo il problema è che io nella mia carriera ho fatto anche il dettore di ASDA tante anni fa il problema è che i dati in tempo reale non ce l'ha la regione ma non ce l'ha neanche l'azienda sanitaria nell'azienda sanitaria dove ero io che era quella di Firenze noi avevamo 106 sistemi informativi il direttore per avere il dato a livello aziendale doveva aspettare un mese che l'ufficio dei sistemi informativi mettersi insieme i dati per cui pensate cosa vuol dire di qui cosa perché il data lake nazionale perché il data lake nazionale che deve attingere perché la fonte dei dati deve essere la stessa dalle regioni deve mettere insieme i dati e quant'altro deve essere in grado di poter andare a consentire la lavorazione dei dati a fini che oggi possono essere noti ma domani possono essere anche noti perché oggi c'è il covid domani ci può essere altre patologie che escono fuori ci può essere degli effetti che è bene andare a misurare e che pertanto daranno alla governance del sistema quelle informazioni che sono necessarie per poter prendere le decisioni in maniera grazie allora grazie mille a questo punto chiedo a loro a Gabrielli e a Bonin qual è l'ordine che secondo voi è più opportuno ah no no ah no ma io non faccio mai va beh farlo farlo io bene allora grazie allora intanto ringrazio Motore Sanità per queste giornate perché sono state molto interessanti veramente io sono qua dall'altro giorno mi sono ascoltato tutti con molto disciplinato sì è stato veramente molto interessante perché hanno i vari interventi hanno anche stamattina hanno portato diciamo varie fotografie dello stesso oggetto fatte da angolazioni diverse ognuno per il proprio conto e questo è molto importante e molto arricchente però proverò anche io a fare la mia fotografia dal mio punto di vista il mio punto di vista è quello del centro nazionale della telemedicina dell'istituto superiore di sanità noi cosa facciamo sostanzialmente lavoriamo per costruire un sistema italiano di telemedicina che sia operativo in tutta Italia in modo coerente pur adattandosi alle diversità di territorio e per farlo agiamo su più fronti contemporaneamente perché noi in Italia abbiamo il problema che siamo un po' indietro sulla telemedicina ci siamo un po' diciamo lasciati alle spalle un periodo di tanta sperimentazione ma di poca organizzazione purtroppo e infatti ne abbiamo pagato le spese anche come abbiamo detto anche è stato sottolineato poco fa da collega Mannozzi abbiamo ne abbiamo subito le conseguenze anche durante la pandemia e adesso c'è un po' la volontà di tutti di recuperare e di fare in modo di avere un sistema che possa funzionare ed erogare delle prestazioni che è lo scopo della telemedicina che non è quello di fare la prenotazione online della visita è quello di erogare una visita a distanza un controllo una prestazione sanitaria la telemedicina è quindi va trattata va pensata gestita e anche studiata come medicina cioè la telemedicina è medicina e va trattata nello stesso modo perché sottolineo questo punto perché è molto importante il rapporto che abbiamo anche stamattina sentito più volte sottolineare tra la parte tecnologica e la parte di attività sanitaria medica sono un medico quindi mi viene più facile pensare alla parte medica ma non c'è solo quella ci sono tante professioni sanitarie e c'è un altro aspetto importante in questo in questa nuova collaborazione che noi dobbiamo capire che nessuna tecnologia per quanto sofisticata questa possa essere risolve niente da sola siamo noi e per noi intendo chi usa chi diciamo lavora nell'ambito a tutti i livelli nell'ambito sanitario che dobbiamo capire come pensare come introdurre la tecnologia nel nostro lavoro in modo tale che essa ci aiuti a risolvere dei problemi cioè alla fine siamo noi che dobbiamo risolvere i problemi utilizzando le tecnologie ora in questo la medicina lo sta facendo anche con le tecnologie digitali esattamente come da centinaia di anni sta facendo sempre nella sua evoluzione cioè prende dalle tecnologie prende dalle dalle novità scientifiche delle scienze di base prende queste novità e cerca di usarle per risolvere i problemi clinico assistenziali dei pazienti e anche fare prevenzione verso i sani questo è quello che fa la medicina da sempre e lo fa anche con le tecnologie digitali bisogna essere attenti a stare dentro a questa modalità di lavoro perché è una modalità di lavoro che funziona magari è un po' diciamo è un po' una modalità che procede a piccoli passi e non a grandi balzi ma sono piccoli passi sicuri che portano nella direzione sempre di un miglioramento quindi una collaborazione è stato detto più volte e lo sposo questo concetto completamente occorre che ci sia una nuova tipo di collaborazione tra la parte tecnologica e la parte medica serve servono medici che sappiano capire il linguaggio degli ingegneri e dei programmatori e servono ingegneri e programmatori che sappiano capire che cosa significa stare a letto di un malato il che non significa che un ingegnere deve diventare un medico o che un medico deve diventare un programmatore ognuno deve fare il proprio mestiere ma bisogna essere in grado di comprendere le problematiche degli altri e per farlo bisogna parlarci bisogna lavorare in gruppo infatti la telemedicina tipicamente è una modalità di lavoro multidisciplinare per definizione perché ho bisogno non posso fare io da medico tutto un sistema di telemedicina ho bisogno di chi mi aiuta in di chi mi aiuta dal punto di vista tecnologico e viceversa se il la l'ingegnere e il programmatore si chiudono in una stanza e tirano fuori un software una macchina senza aver mai consultato un medico per capire che cosa significa un sanitario per capire che cosa significa il proprio lavoro 99 volte su 100 fanno qualcosa che non serve che non verrà utilizzato perché non è conforme a quello che serve e alle esigenze questi problemi sono problemi di fondo proprio di di sviluppo che noi dobbiamo di cui dobbiamo essere consapevoli e dobbiamo essere consapevoli che siamo all'alba di una nuova era noi che ci consideriamo evoluti in realtà dobbiamo imparare a considerarsi per quello che siamo veramente cioè dei primitivi nell'era digitale io faccio sempre il paragone noi siamo come quelli che montavano sulle prime macchine automobili a scoppio che assomigliavano a delle carrozzelle che si attivavano con la manovella ecco noi siamo come quelli quelli mai avrebbero pensato a quello che contiene una macchina oggi che noi utilizziamo tranquillamente tutti i giorni per andare a fare la spesa non avrebbero nemmeno concepita una macchina in quel modo ecco noi siamo in questa condizione la tecnologia digitale ha una caratteristica a differenza di quella meccanica delle automobili che evolve a una velocità straordinariamente più elevata e quindi le novità arrivano con ritmi molto più forti questo comporta dei problemi notevoli per la sanità per i professionisti perché devono continuamente essere disposti a mettere in gioco i processi di lavoro e le proprie procedure ma soprattutto per l'amministrazione dello Stato e la burocrazia e le norme dello Stato ora che le norme siano indietro rispetto all'innovazione tecnologica dobbiamo rassegnarci perché chiaramente una norma ha bisogno di tempi di maturazione di discussione come è giusto che sia quindi che siano un pochino indietro e normale diciamo fra virgolette normale è impensabile che sia il contrario che siano avanti le norme ma questo non è un problema se non c'è troppo ritardo diventa quando è troppo ritardo diventa un problema perché è un fattore limitante ma il fattore ancora più limitante in questo momento è il fatto che le norme amministrative dello Stato soprattutto perché siamo abbiamo un servizio pubblico che dobbiamo difendere e quindi dobbiamo tutelarlo però il servizio pubblico l'amministrazione del servizio pubblico deve adeguarsi alla realtà che le tecnologie digitali ci pone di fronte nei prossimi anni e quindi dobbiamo fare in modo che questi processi amministrativi siano adeguati a questa circostanza che sono nuove mi rendo conto ma sono importanti per il nostro futuro dati e intelligenza artificiale allora i dati sono una cosa nuova che non è esiste in natura la dobbiamo produrre come l'energia e i dati sono una novità così come li abbiamo noi cioè i dati digitali le macchine digitali ci consentono di produrre e di gestire dei dati in una maniera che non è mai stata possibile prima nella storia della medicina questo aprirà necessariamente una nuova fase ecco perché chiamo di nuova parlo di nuova era una nuova fase nella medicina anziché vedere il malato una volta ogni tre mesi noi siamo in grado di seguire i parametri utili per la propria patologia anche tutti i giorni anche ogni ora anche ogni cinque minuti ammesso che sia utile farlo ok però in teoria lo possiamo fare e quando ci apre delle prospettive diversissime la gestione dei dati non è che sono tanti di più cioè è vero che sono tanti di più ma un big data non è solo un grosso mucchio di dati è un grosso mucchio di dati che però sono dati che cambiano nel tempo che cambiano il loro valore il loro significato nel tempo e quindi dobbiamo essere in grado di gestirli in quest'ottica ecco perché servono dei sistemi computerizzati come non ripeto le parole di Vanozzi le dice meglio di me su come devono essere i sistemi computerizzati e dobbiamo lavorarci ma vi rendete conto che sono tutte questioni nuovissime che dobbiamo imparare a gestire e sull'intelligenza artificiale finisco dicendo una cosa dicendo che l'intelligenza artificiale in questo momento il machine learning in questo momento che cosa fa fa semplicemente quello che farebbe qualunque uomo cioè ogni uomo è in grado ogni professionista di una certa materia è in grado di fare quello che fa il machine learning o l'intelligenza artificiale solo che l'uomo ci mette un mese l'intelligenza artificiale ci mette qualche secondo allora noi dobbiamo sfruttare questa nuova opportunità poi che queste tecnologie un giorno saranno in grado di fare ancora di più probabilmente è vero questo non dobbiamo essere però troppo precipitosi perché è vero che l'intelligenza artificiale ha delle prospettive già oggi estremamente importanti sulla ricerca è vero anche che l'uso nel caso singolo della singola persona che ho di fronte a me il singolo malato che si rivolge a me come medico e mi chiede la soluzione dei suoi problemi gestirlo con l'intelligenza artificiale oggi propone dei problemi medico-legali e dei rischi che in questo momento sono ancora come diceva prima il collega che si è collegato sono ancora devono essere risolti e quindi dobbiamo ancora lavorarci tanto sopra altrimenti perché se io devo consultare una o più macchine e poi sapere che sono imprecise e poi decidere comunque io non le sento proprio decido io e faccio prima grazie allora grazie mille passerei immediatamente la parola a Mauro Bonin e poi chiedo a Desiree e a Carlo di preparare il video sull'innovazione di Rompente e chiedo se hanno avuto la pazienza di rimanere con noi i clinici su Molecule TumorBor rimarrei tutti qua e vediamo poi come procedere prego sì grazie diciamo che i temi della programmazione sono stati chiamati in causa più volte soprattutto anche con gli ultimi interventi ecco io lavoro in Regione Veneto mi occupo di programmazione per cui proviamo a vedere qual è anche questa prospettiva allora io credo che una cosa che dobbiamo sottolineare ed è uno dei punti che anche visto che si parlava dell'assessore Lanzarini in precedenza sì vado un po' a braccio perché credo che questo punto gli stimoli siano anche un po' diversi rispetto alla mia presentazione ecco anche fra le cose che ha sottolineato anche l'assessore Lanzarini vi sono alcune cose che abbiamo imparato dal covid e tutti quanti stiamo cercando di fare un po' questo sforzo di non dimenticare no? di sedimentare alcune questioni una di queste è che abbiamo cominciato a utilizzare le informazioni in tempo reale ecco quindi è vero che ci troviamo sempre a lavorare questo è verissimo ma il covid ci ha insegnato alla necessità di avere i dati in tempo reale va bene questa è un'operazione di allineamento di convergenza dei sistemi non è tanto che forse il tema di questa tavola rotonda invece la vera novità è stata che abbiamo cominciato ad utilizzare sistemi predittivi e questa è la vera novità perché abbiamo cominciato le abbiamo viste un po' dappertutto queste curve dell'epidemia guardate che anche noi in Veneto ma credo un po' tutti abbiamo cominciato ad utilizzare magari in piccolo magari con soluzioni abbiamo cominciato ad utilizzare l'intelligenza artificiale per cominciare ad avere una predittività di brevissimo periodo quindi un mese tre mesi un anno sulle nostre politiche questa è stata la prima volta a mio avviso che i sistemi di programmazione hanno cominciato ad utilizzare i sistemi ma non è tanto la novità tecnologica la vera novità è l'esigenza di cioè il fatto che abbiamo capito che dobbiamo per programmare i servizi pur in una condizione di emergenza abbiamo bisogno di lavorare sulla capacità di predizione ecco dei nostri fabbisogni delle nostre attività eccetera questo è secondo me l'elemento innovativo anche se lo confrontiamo con quelle che normalmente sono le nostre capacità programmatorie perché guardate adesso in questa sala ci sono e anche sicuramente collegati sono dei manager di lungo corso che quindi molto più di me potranno anche confermare o smentire quello che dico ma guardate che livello di programmazione di brevissimo periodo di breve periodo che hanno i servizi sanitari normalmente regionali sono quello forse più evoluto è quello che dice quanto sarà il picco di influenza e quindi quanti sono i letti che dovrò attivare a gennaio-febbraio ma quelli successivi sono beh con tutto questo monte di ferie quanti sono i letti che posso chiudere quest'estate e e l'altro tema che io ho visto anche più di recente per dire un altro è la programmazione dei fabbisogni personale sanitario ecco voi sapete quanti danni stanno pagando i nostri sistemi sanitari per l'errore nella ecco nella determinazione del fabbisogno ecco di professionisti sanitari medici ma anche gli infermieri problemi di numeri chiusi quant'altro sappiate che le tecniche di predizione dei fabbisogni sono basate su una serie storica banalissima per cui è quelli che avevo prima più o meno quelli che vanno in pensione quelli che muoiono ma la vera domanda è se anche avessimo avuto delle tecniche più evolute poi sarebbe cambiato qualcosa davvero perché allora il tema della capacità di predizione poi si deve sposare con la capacità di cambiare di rendere flessibili i sistemi e anche questa è stata un'altra scoperta del covid abbiamo modulato la nostra offerta in modalità in tempi e con con delle che non avrò mai potuto fare in tempi ordinari e questa è stata una grande scoperta e consapevolezza anche dei nostri servizi sanitari ecco io queste queste cose non vorrei dimenticarle ecco perché rappresentano un elemento di forte novità bisogna che non torniamo indietro adesso che abbiamo imparato a fare così bisogna che lo facciamo non solo più in occasione di emergenza ma che diventino modalità normali ecco di operare allora in questo senso eh porto un attimo una velocissima esperienza ecco del Veneto solo per dire cosa stiamo facendo anche in questo questo punto di vista e parte da una cosa di dieci anni fa abbiamo fatto una ricerca ma anche quel tempo anche ci sembrava molto semplice dove abbiamo messo attraverso dei ragazzi intesi delle facoltà di statistica abbiamo messo abbiamo preso tutti i dati di consumo dei nostri farmaci nel territorio abbiamo provato a confrontare con i software di quel tempo anche per quanto alcuni addirittura scaricabili gratis da internet pensate abbiamo confrontato la capacità della macchina di predire il fabbisogno di prodotti farmaceutici con la capacità di predizione che aveva avuto invece il comitato tecnico di gara composto da farmacisti per la gara regionale di farmaci risultato del confronto si sbagli uguali quindi l'errore è del 2-3% per cui prima commenta vabbè visto la macchina non ha fatto niente di meglio ma il comitato tecnico di gara ha lavorato sei mesi con riunioni confronti tabelle chieste a dati la macchina ha lavorato in una notte a quel tempo quindi tu ogni giorno potresti avere tua previsione aggiornata rolling dei tuoi fabbisogno di attività e di source continuamente senza bisogno di ricorrere per una parte molto importante rispetto alla capacità invece gli ordinari strumenti di inchiesta intervista tu cosa pensi mandami dati eccetera che sono processi lunghissimi e molto molto costosi oggi anche grazie a questa esperienza ma anche con altre considerazioni abbiamo provato a costruire un modellino che ci ha consentito ecco perché l'abbiamo già applicato di cui non do evidenza dopo vi spiego perché ecco che ha prodotto abbiamo provato a simulare il fabbisogno di prestazioni sanitarie dei pazienti diabetici di vario tipo la macchina ovviamente si è basata sulle informazioni di vario tipo e di varie database ha prodotto una previsione assolutamente poi sovrapponibile ai dati osservati e sulla base di questa ha anche simulato il fabbisogno di capacità produttiva in termini posti letto risorse assorbite e quant'altro ecco il modellino funziona ma la vera domanda che mi pongo dopo è va bene ma dopo questo come riusciamo poi a portarlo nei nostri sistemi di adeguamento perché noi vi sapete che per esempio che la programmazione sanitaria viene con cadenza quinquennale voi sapete che le schede ospedaliere vengono definite ogni tre anni mentre qua stiamo parlando di posti letto che si cambiano ogni mese ogni due mesi ecco spesso la programmazione sanitaria è un punto di caduta perché è un compromesso fra vari non è un'esigenza poi gestionale che si deve muovere giorno per giorno in ragione dei fabbisogni le sfide poi sono queste perché la tecnologia ci dà le grandi opportunità però poi i sistemi organizzativi che sono a valle ecco devono avere la stessa capacità di reazione e qualcosina l'abbiamo imparato ma forse un po' di strada c'è da fare perché non vi espongo a parte che ce l'ho la slide ma perché non volevo far vedere più di tanto questa ecco però per un tema che tratterò in maniera forse leggera vista anche un po' che siamo un po' alla fine anche un pochino stanchi però l'ho tratto un po' leggera però le lezioni sono ecco importanti quindi dopo torniamo seri beh voi sapete che un'analoga esperienza è stata fatta a livello di sistema nazionale condotta dal ministero della salute si chiama progetto Pongov magari molti di voi lo conoscono che sostanzialmente è un modello che vuole arrivare a affinare la capacità predittiva di attività e soprattutto di consumo di risorse per far questo ha coinvolto questo progetto diverse regioni che hanno fornito tutta una serie di elaborazioni di dati su algoritmi che ha preparato di estrazione che ha preparato il ministero tutte le regioni hanno fornito i dati di attività di consumo quant'altro strettamente anonimi tutto il garante della privacy viene a sapere di questa cosa che cosa state facendo oh niente se non sta facendo niente no state facendo il trattamento dei dati eh vabbè ma è un progetto ministeriale no 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 tutti qua adesso mi spiegate cosa fate allora il ministero faccio breve se ne esce disinvoltamente perché dice beh io io sono loro che hanno i dati io gli ho solo chiesti giusto il ministero ne esce salvi le regioni porca miseria noi no chi ha fatto il trattamento dei dati le regioni ma sono i nostri archivi amministrativi gli stessi che trattiamo ma sono riconducibili ai dati degli assistiti anche se sono anonimi beh sì perché da qualche parte abbiamo delle tabelle che ci ricondurano no non dovevate farlo avete fatto una violazione al trattamento dei dati sapete che queste cose sono sei mesi di reclusione sei mesi di reclusione cioè per avere trattato esattamente le formazioni come le abbiamo sempre trattate nessuna novità anche abbiamo fatto cose particolari allora il garante ci ha creato una mano allora avete eliminato tutto quanto sì allora noi abbiamo bruciato i server con tutti i dati abbiamo eliminato tutto quanto cioè avete eliminato le formule noi abbiamo anche abbiamo anche ammazzato qualcuno l'abbiamo nascosto nei boschi di Asiago quindi c'è più nessuno qui che abbia fatto queste lavorazioni va bene tirata d'orecchie ed è finita lì ecco questo è un po' allora conseguenze per il Veneto abbiamo bloccato tutti i contratti con cui facevamo profilazione profilazione e anche semplicemente fare il DRG grouping attenzione è anche solo calcolare i DRG però abbiamo altri sistemi di classificazione che utilizziamo per tentare di sviluppare un po' di medicina predittiva fermato tutto quanto certo allora fermato tutto quanto perché effettivamente la lezione che dobbiamo imparare è quella che anche nel fare le cose di prima non possiamo più farla con la leggerezza forse che facevamo prima abbiamo bisogno indubbiamente di sviluppare nuove sensibilità nel trattamento dei dati quindi questa è un'occasione importante la accogliamo con un elemento di educazione ecco neanche che ci siano le sanzioni che girano ma comunque un elemento di educazione a parte del garante bisogna che normiamo questo e bisogna che tutti facciamo un passo in avanti se no il rischio è che poi ci fermiamo quindi anche quelle valide iniziative che abbiamo portato avanti poi rischiano di arrestarsi anche qui dobbiamo fare un salto un po' culturale e anche probabilmente nella nostra capacità di aumentare la sensibilità in questo senso quindi parto con fare il mia colpa grazie garante che ci hai segnalato queste nostre diciamo fragilità cerchiamo ovviamente di migliorarci ecco questo è un po' il percorso e le difficoltà che ci attendono spero di aver fatto un quadro un po' di quelle che sono le opportunità e poi i rischi di chi si occupa di programmazione ma un po' le tematiche che abbiamo incontrato almeno noi sono un po' queste grazie grazie dottor Bonin credo che gli ultimi interventi abbiano risollecitato l'attualità e la necessità di un'operazione comune l'esempio che hai portato Mauro su quello che è successo rappresenta il fatto che la normativa sulla privacy e la gestione sulla privacy può essere un vincolo per noi noi dobbiamo rappresentarla come un'opportunità per il cittadino che addirittura facciamo fatica a fare cose che sembrerebbero obbligatorie subito senza proprio perché c'è un rispetto del dato e quindi un rispetto del cittadino potrebbe essere questo e l'altro aspetto che si lega un po' a un filone che sta uscendo in modo molto chiaro è che multiprofessionalità deve passare da slogan a realtà in molti casi è già una realtà ma non deve rimanere solo puntiforme deve essere un'evoluzione per cui un linguaggio comune un capire i problemi degli altri aiutano a risolvere la complessità che la velocità e le potenzialità della tecnologia ci mettono a confronto prima di procedere ho un'informazione di servizio che mi hanno chiesto da dare tutti i relatori che sono collegati per la successiva importanza dell'aderenza terapeutica se si scollegano ricevono un nuovo link quindi questa era un'informazione di servizio poi c'è un'informazione che deve darci per i presenti invece che seguono la tavola del valore dell'aderenza la trovate al piano interrato quindi dove abbiamo di solito lo streaming di quello che sta succedendo nella comunale in fondo a sinistra comunque vedete fuori patrocini e sponsor così riconoscete la sala grazie mille sì perfetto Disruptive Innovation innovazione di rompente ecco iniziamo con un video e poi Molecular Tumor Board e terapia genetica concludono e danno alla completezza della sessione di oggi che cos'è la Disruptive Innovation nel 1942 Schumpeter formulò la teoria della distruzione creativa o distruzione creatrice si tratta di un processo di mutazione industriale che rivoluziona incessantemente la struttura economica dall'interno distruggendo senza sosta quella vecchia e creandone sempre una nuova scopo principale della distruzione creativa è quello di offrire una sostituzione migliore e spesso più economica rispetto a quella attuale di un prodotto esistente nell'opinione su Disruptive Innovation l'Expert Panel on Investing in Health della Commissione Europea ha definito l'innovazione di rompente nel settore sanitario come un tipo di innovazione che crea nuove reti e nuove organizzazioni sulla base di una nuova serie di valori coinvolgendo nuovi attori che consente di migliorare la salute e raggiungere altri obiettivi preziosi come equità ed efficienza oltre alla definizione europea di innovazione di rompente il panel ha anche elaborato una nuova tassonomia delle innovazioni di rompenti basata sui campi di applicazione e sulle loro categorie alcuni esempi di innovazione di rompente in medicina sono lo sviluppo di antibiotici di farmaci antiulcera lo sviluppo della chirurgia minimamente invasiva e un nuovo e più efficace trattamento dell'HCV alcuni esempi invece di innovazioni di rompente in ambito organizzativo sono la salute mentale basata sulla comunità e l'assistenza integrata esempi invece di innovazioni di rompente in ambito di prodotti e servizi sono lo sviluppo delle cure palliative e l'assistenza centrata sul paziente un esempio infine di innovazione di rompente in ambito di risorse umane e l'autogestione del paziente col diabete alcuni campi per il futuro ad esempio la ricerca traslazionale le tecnologie innovative e la medicina di precisione e secondo voi quali sono i punti disruptive nel PNRR? dopo questa introduzione proseguiamo col programma quindi diamo la parola al professor Patrizio Giacomini oncogenomica ed epigenetica istituto Regina Elena di Roma che dovrebbe essere collegato buongiorno sono collegato è un piacere essere con voi anche solo a distanza ho preparato delle diapositive che prego la regia di mandare siccome Paolo a professionisti voi mi insegnate cos'è un molecular tumor board ho deciso di far dire cos'è un molecular tumor board da un breve filmato che abbiamo preparato e che è pensato esclusivamente per i pazienti se può cliccare in maniera che vada e poi faccio due commenti prego grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Bene, se posso avere la prossima. Prossima, grazie. Prossima diapositiva. Arriva subito. Grazie. Allora, è un video, come potete vedere, estremamente divulgativo, però nonostante sia divulgativo, credo che ci sono alcuni messaggi fondamentali che possono essere desunti dal video stesso, alcuni spunti di riflessione che volevo condividere con voi. In particolare c'è il concetto di trattamento tumor agnostico, quindi un trattamento che ormai ci avviamo a basare non solo sul dato istopatologico, ma sul dato molecolare. C'è anche l'idea, diciamo, io tanto parlo mentre aspetto le diapositive. Prego, prego, abbiamo un piccolo problema tecnico, ma arrivano subito. Va bene, intanto io comunque comincio. C'è quest'altra idea molto pervasiva della medicina di precisione, della continua e incessante espansione del genoma azionabile. C'è l'idea dell'utilizzo fuori indicazione dei farmaci che sono già noti. È ovviamente spiegato in maniera semplice, ma dietro ci stanno i trials anche molto innovativi, l'uso compassionevole, il Fondo Nazionale AIFA 5%, tutte risorse da mettere a disposizione del trattamento, diciamo, fuori degli schemi. E c'è anche un'idea, magari ne possiamo discutere poi, che questi non sono ancora sufficienti. C'è in questo piccolo filmato, si sforza di far capire ai pazienti che, insomma, stiamo lavorando per voi. Queste soluzioni 1, 2 e 3 sono anche soluzioni sostenibili, però, tanto è vero che si stanno creando reti regionali di Molecular Tumor Board sul modello Hub Spoke e che queste reti sono sostenibili perché non c'è anarchia, al contrario. Il processo di Molecular Tumor Board è un processo disruptive, innovative, disruptive innovation, ma è anche un processo che può essere regolato in maniera scientifica, basato sulla medicina dell'evidenza e quindi come tale diventerà sostenibile. I risultati saranno tracciabili e interrogabili. L'idea del big data che abbiamo estremamente sviscerato durante la mattina, tracciabili e interrogabili. E poi, infine, c'è il valore del contratto di cura, il consenso informato, l'affidamento del paziente e la capacità di comunicare, quindi la medicina 4P che è stata evocata più forte. Quindi, detto questo, se posso vedere la prossima, non resisto alla tentazione comunque di farvi vedere due diapositive rapidissime che aprono un po', fanno vedere il motore di ogni Molecular Tumor Board, in particolare il motore che noi abbiamo adottato per il nostro, che lo ha fatto rapidamente diventare, nel solco delle tante cose che abbiamo detto stamane, virtual Molecular Tumor Board. Noi abbiamo una piccolissima piattaforma, so che il Cineca ha una piattaforma molto più sofisticata. Noi ovviamente abbiamo fatto una cosa che ci permette anche di fungere da hub, da consulenti, per moltissimi colleghi sul territorio di Roma e del Lazio e anche fuori dalla regione, che magari ci inviano i loro pazienti. Ed è un piccolo database, potete vedere sulla sinistra che ci si può accedere in maniera ovviamente GDPR compliant e potete anche vedere che sulla destra l'innetta a disposizione di menù a tendina con una serie di risorse biotecnologiche con le quali noi caratterizziamo da un punto di vista molecolare i pazienti oncologici che si rivolgono a noi. Il prossimo. Questa è l'ultima, la prossima è l'ultima diapositiva, che sono alcuni risultati che abbiamo ottenuto. Noi abbiamo visto in giro di due anni 120 pazienti, 73 di questi 120 hanno almeno un'alterazione azionabile e come potete vedere immediatamente sotto di questi pazienti noi ad alcuni non abbiamo dato terapia perché noi siamo estremamente conservativi e utilizziamo terapie alternative non in indicazione ma a livelli onco KB assolutamente molto elevati e B, e questo è il punto dolente, perché nonostante il farmaco fosse stato identificato da questi pazienti non era disponibile, possiamo discutere i motivi. Però in 45 casi in cui la terapia raccomandata è stata effettivamente somministrata abbiamo un dato molto interessante che nonostante siano pazienti veramente all'ultima possibilità terapeutica abbiamo un PFS mediano di quasi 200 giorni e soprattutto abbiamo non soltanto le barrette in blu che vi dicono, questi sono alcuni pazienti rappresentativi, quanto i pazienti vanno avanti in risposta rispetto al farmaco ma che addirittura dopo questa ultima spiaggia, se così vogliamo chiamarla, ci sono poi le barrette rosse in cui i quattro pazienti al centro che vi fanno vedere che i pazienti hanno comunque risposto anche ad ulteriori terapie successive e questo abbiamo dei dati per dimostrare che questo è dovuto al fatto che il Molecchio del Tumor Board, nell'azionare la medicina di precisione al massimo livello ottiene una semplificazione clonale del tumore e quindi favorisce anche ulteriori risposte. Quindi io vorrei concludere, se posso vedere l'ultima diapositiva, con una breve considerazione che cosa vi posso dire? Aiutateci, aiutate il network di Molecchio del Tumor Board italiano, regionale, nazionale, sovranazionale a sviluppare quello che è un vero e proprio laboratorio della futura oncologia di precisione. Grazie. Grazie, ringrazio molto per le sue slide e per la sua relazione. Chiederei al professor Marchetti se è collegato. Sì, buongiorno a tutti, sono qua. Buongiorno, la ringrazio. Volevo sapere la sua opinione in merito. Professore, lei ha delle slide? No, no. Porterò così dei dati in real world. Premetto che sono un patologo, parlo anche a nome del gruppo italiano di patologia molecolare e medicina predittiva che coordino per la società di anatomia patologica. Quindi vorrei il mio intervento focalizzarlo su quelli che sono dati che recentemente abbiamo ottenuto, dati diciamo reali sul territorio, di quella che è la situazione sul territorio nazionale. I patologi che lavorano nell'ambito della diagnostica molecolare di precisione si sono resi conto nell'arco degli ultimi anni che il numero dei biomarcatori è progressivamente cresciuto in maniera esponenziale per venire incontro ai farmaci che sono sempre più numerosi e che richiedono di essere pilotati da biomarcatori che devono essere indagati con accuratezza. Quindi farmaci a bersaglio molecolare che richiedono una conoscenza specifica dei biomarcatori. N'è stato un esempio quello che si è verificato per il carcinoma del polmone. Nel corso di pochi anni siamo passati da un solo farmaco a bersaglio molecolare a una decina di farmaci e quindi ora dobbiamo come patologi valutare una decina di diversi marcatori. Questo è tutt'altro che semplice. E quindi nei centri diagnostici che sono distribuiti sul territorio nazionale si è verificato un necessario adattamento laboratoristico a queste nuove esigenze da un punto di vista clinico, con sviluppi notevoli in pochi anni delle strutture, delle tecnologie, in particolare del sequenziamento di nuove generazioni o NGS di cui avete sentito parlare. Di questo ora come patologi, come società di anatomia patologica, abbiamo contezza a seguito di una serie di survey che abbiamo effettuato nel corso degli ultimi anni proprio per monitorare lo sviluppo di queste tecnologie. In pratica è stata costruita da alcuni anni una rete nazionale sia perché di studio per il monitoraggio dei centri che operano con tecnologie NGS di sequenziamento di nuova generazione sul territorio. Questa serie di survey ci hanno permesso di ottenere informazioni interessanti a più riprese, monitorando quindi la situazione generale. Dai risultati di una ultima survey è emerso che sul territorio nazionale ci sono circa una trentina di centri più o meno che operano nel settore della diagnostica molecolare avanzata tecnologicamente con questi sequenziatori di nuova generazione che poi sono i produttori dei big data di cui tanto si è parlato oggi perché producono migliaia e migliaia di dati per ciascun paziente che poi devono essere accuratamente valutati. Questi 30 centri sono in 14 casi centri universitari perché richiedono strutture piuttosto importanti, otto grandi ospedali, sette istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. I centri dispongono di strumentazioni NGS, alcuni centri, due terzi dei centri nella nostra serie, nella nostra valutazione, presenta degli strumenti veramente potenti e nel corso dell'ultimo anno sono stati effettuati da questi centri più di 13.000 test diagnostici. Ecco, i dati sono interessanti quindi sul territorio nazionale, tuttavia sono ancora al di sotto di quanto ci si attenderebbe per i pazienti oncologici in fase avanzata secondo le fonti di cui viene. Quindi c'è ancora tanto lavoro per portare a regime questo tipo di diagnostica. I dati dell'indagine indicano che l'attività diagnostica basata sul sequenziamento massivo parallelo è ancora molto eterogenea. In termini di distruzione geografica ci sono più laboratori al nord e centro rispetto al sud anche in termini di caratteristiche dei laboratori, in termini di potenzialità delle apparecchiature che vengono utilizzate e delle attività svolte. I centri diagnostici non sono ancora ben strutturati almeno una parte del territorio in reti regionali, territoriali e tantomeno in una rete nazionale funzionale e questo è fondamentale, lo vedremo. Quindi questa eterogenità io credo che sia dipesa sostanzialmente dal fatto che si è trattato di un insieme di iniziative locali, locoregionali, indipendenti almeno inizialmente e poi si è compreso l'importanza di unificare un po' tutto questo da qui la necessità di facilitare un percorso che sia nel prossimo periodo più coerente, più armonioso per poter arrivare a una diagnostica molecolare oncologica in Italia che vada al di là di strategie che sono state adottate finora. Questo è importante anche perché la pratica clinica in questo settore richiede una scelta molto attenta delle strumentazioni, dei biomarcatori, delle strategie analitiche e ancora è più importante se si considera che dietro a questi sforzi innovativi tecnologici c'è una spesa non indifferente per cui i fondi devono essere ben indirizzati, non devono essere delle iniziative dissociate ma possibilmente devono essere ben orientati affinché si possa arrivare a una rete coerente e potente. La survey condotta dalla nostra società scientifica ha indagato anche il rapporto tra i laboratori e i Molecular Tumor Board e diciamo che nel 61% dei casi i laboratori sono in contatto con professionisti che operano in ambito multidisciplinare ma non sono stati costituiti dei veri e propri Molecular Tumor Board su tutto il territorio, soltanto in circa il 25% dei laboratori è collegato a un Molecular Tumor Board già riconosciuto a livello regionale. Ci sono 9 regioni al momento attuale che hanno già prodotto delle linee o che hanno attivato dei Molecular Tumor Board a livello regionale. Pertanto direi in conclusione che l'esperienza condotta dalla nostra società ci fornisce un quadro complesso sicuramente in evoluzione rapidissima perché queste sono tecnologie a rapido turnover che necessita di essere monitorata in maniera molto accurata. Questo è il nostro compito come rete di studio, ci stiamo muovendo più o meno in linea con quanto si realizza però anche a livello europeo perché siamo strettamente in contatto con la società europea di patologia che sta curando attentamente lo sviluppo in Europa di questi lavoratori altamente tecnologici. Tutto questo al fine, come sappiamo, di sviluppare un'attività tecnologicamente avanzata permette di ottenere dei big data. Big data, data lake, possibilità di mettere insieme anche dati crudi in maniera da poter conoscere veramente a fondo che cosa avviene nel tumore del paziente, confrontare questi dati a livello nazionale, dobbiamo arrivare rapidamente ad una piattaforma di big data nazionale. E con questo mi fermo dal punto di vista del patologo. Grazie professore, la ringrazio molto. Chiederei a Carmine Pinto forse aveva ancora qualcosa da dire. Io condivido tutto quello che è stato detto dal professor Marchetti che mi trovo esattamente in linea, abbiamo condiviso molte di queste idee in tanti anni. Il problema maggiore che abbiamo in questo momento a mio avviso è la mancanza di una governance per quello che riguarda l'oncologia di precisione, per quello che riguarda la profilazione molecolare dei tumori, una governanza nazionale. E l'altro elemento, e continuo a dire, si cerca di centrare il problema sull'MTB, sui molecoli attomo a bordo, ma i molecoli attomo a bordo sono una parte di un sistema che va costruito e va governato. Perché voglio dire, se non creiamo la rete dei laboratori di biologia molecolare e definiamo quanti laboratori di biologia molecolare con tecnologie avanzate abbiamo bisogno, è inutile parlare di molecoli attomo a bordo perché anche in questo campo poi intero nello specifico. Allora, siamo in una situazione di profondo cambiamento in cui l'oncologia di precisione può cambiare in maniera rilevante la sopravvivenza, la qualità di vita e anche la guarigione dei nostri pazienti. Abbiamo una serie di test molecolari che vengono fatti per i quali abbiamo già a disposizione dei farmaci. Oggi, quello che dice il professor Marchetti, abbiamo la necessità per alcuni tumori, in particolare per l'adenocarcinoma del polmone, di non andare a cercare la singola alterazione molecolare, ma cercare un pannello di alterazioni molecolari perché abbiamo 7-8 farmaci già a disposizione. Noi potremmo curare con una terapia target molecolare circa il 30-35% già oggi degli adenocarcinomi del polmone. Il problema è che questo non avviene perché continua a dire focalizziamo il problema sull'ultimo elemento che avvale, che è le molecole al tumor abort, ma non focalizziamo sul problema vero, che vuol dire i quanti laboratori reali che abbiano tecnologie, ma soprattutto competenze maturate di biologia molecolare abbiamo bisogno. E qui apre un previnciso. Adesso c'è questa moda, e Antonio lo sa molto bene in Italia, che tutti dobbiamo avere a casa nostra una macchina che magari non sappiamo neanche sarà piena su cui fare l'NGS, che non si collega assolutamente a nulla. Per cui abbiamo bisogno di quello che diceva Antonio, di avere una rete di laboratori tecnologicamente adeguati di biologia molecolare all'interno delle reti oncologiche regionali che diano la possibilità a tutti i pazienti in tutto il paese di accedere ai test. Questa è la prima cosa. Se non facciamo questo, noi parliamo assolutamente di niente. Vengo al secondo elemento che è quello dei molecolare tumor board. I molecolare tumor board sono necessari assolutamente sì per tutte quelle situazioni in cui non c'è già un'indicazione di una responsabilità di farmaco. Voglio dire, nella denocarcinoma del polmone abbiamo già quattro o cinque alterazioni molecolari con farmaci rimborsati. È ovvio che questi casi non devono andare ai molecolare tumor board. Quando servono i molecolare tumor board? Io non penso che molecolare tumor board sia l'ultima spiaggia dei pazienti. Se guardiamo le grosse casistiche internazionali, l'utilità in termini clinici di quello che viene prodotto da profilazione stessa di tumori per i quali non esistono già indicazioni rimborsate di farmaco, viaggia tra il 18 e il 20%. Quindi diciamo un costo efficace se vogliamo abbastanza basso. Quindi noi dobbiamo andare a definire con chiarezza, con delle regole che non siano diverse da Aosta a Ragusa, di quali situazioni all'interno dei percorsi può essere indicata una profilazione molecolare e che permetta. Se non facciamo questo avviene quello che ha detto Antonio. Abbiamo molecolare tumor board che chi non ha un molecolare tumor board dichiarato poi magari non ha neanche tutte le competenze, non ha nessun collegamento con le strutture cliniche, non ha un collegamento con le reti oncologiche regionali. Occorre quindi molecolare tumor board definite con regole precise, che abbiano criteri di accesso precise e che abbiano soprattutto le stesse modalità in tutte le parti del paese. Un paziente addirittura potrebbe chiedere un parere tramite la rete o direttamente all'MTB di Bolzano o a quello di Ragusa e avere delle indicazioni non al farmaco ma l'accedere al test è completamente diverso. Se non facciamo questo ingeneriamo a mio avviso ulteriormente confusione. L'ultimo elemento a cui finisco e poi tutto questo richiede un finanziamento, voglio dire, richiede dei fondi. Lei sa molto bene che oggi per quello che riguarda dall'NGS non abbiamo delle tariffe definite. Funziona, e chi si occupa di questo lo sa, con dei moltipli di altri codici. Faccio un esempio di alcune regioni che moltiplicano per cinque un codice per ottenere la tariffa dell'NGS. E questo porta a tariffe che sono, adesso non voglio entrare nello specifico, a situazioni molto diverse tra alcune aree del paese e altre, tra strutture convenzionate, strutture pubbliche, strutture accademiche. Ci rendiamo conto che tutto non può essere gestito con queste modalità. E poi occorrono delle risorse. Allora, possiamo pensare di profilare le 370.000 diagnosi di cancro che abbiamo tutti i giorni? Ovviamente la risposta è no. Dovremo identificare, e qui le regole, quelle situazioni per le quali questo è appropriato e per questo trovare giusti finanziamenti. Oggi, ad esempio, per le due situazioni per le quali la Società Europea di Oncologia, l'ESMO, ha indicato che c'è già un'indicazione di profilare ab inizio l'atenocarcinoma del polmone e il colangio-carcinoma. Parliamo di 15.000, 18.000 casi l'anno che dovremo profilare. Per questo non esiste oggi un fondo che possa coprire tutto questo. Per cui, prima di parlare, a mio avviso, di sviluppare MTB, per i quali non avremo neanche le risorse per fare i test, probabilmente va strutturato al meglio e va governato il sistema. Grazie per questo contributo. Ha inserito un fattore nuovo con questo contributo il professor Pinto. Ha parlato di finanziamento. Fino ad oggi l'aveva andato per scontato. E quindi, che vuol dire, un corretto pensiero su quelle risorse che servono. Credo sia stata una mattinata molto ricca. Ringrazio anche la dottoressa Romanin Francesca, che mi ha accompagnato in questa parte dopo Giulia Gioda. È stata una mattinata dove, partendo dai big data, siamo arrivati all'innovazione di Rompente e al modello Virtual Hospital e alla Molecular Tumor Board. E quindi, sostanzialmente, tutti argomenti di grande attualità con spunti anche operativi, perché gli spunti per accrescere la nostra cultura sono utilissimi, ma gli spunti operativi con situazioni da condividere e mettere in pratica sono stati notevoli. è presente in sala il presidente di Fiaso, dottor Giovanni Migliore. Vi chiedo di rappresentare la presenza di tutte le aziende, quindi ha un grande significato a questi lavori della Summer School, se ci vuol dare un saluto, sapendo che poi oggi interverrà sul PNRR. Grazie Walter, veramente molto brevemente, estremamente interessante. Richiamo alla sostenibilità e quindi a un utilizzo appropriato delle risorse che ho ascoltato nell'ultimo intervento. non può che ricondurre una riflessione su PNRR. Ed è una riflessione che, secondo me, ci deve condurre a dare un'assunzione collettiva di responsabilità. Noi non dobbiamo dimenticare che il 60% delle risorse le dovremo in qualche modo restituire. e tra cinque anni qualcuno ci guarderà e ci dirà avete utilizzato bene le risorse, hanno prodotto valore, hanno prodotto anche sviluppo. Allora queste riflessioni che abbiamo ascoltato stamattina che ci mettono a confronto con la realtà che noi viviamo quotidianamente, noi siamo immersi in una società ricca di informazioni e come sappiamo molto bene noi rendiamo le informazioni e richiamo la privacy prima che ha fatto il dottor Locatelli è molto importante. Noi rendiamo ogni giorno parte del nostro patrimonio informativo inconsapevolmente in maniera veramente trasparente. Allora la riflessione è quella da parte delle aziende che sono molto interessate anche ad anticipare i bisogni di salute da parte della popolazione generale. Noi abbiamo l'obbligo istituzionale di tutela del diritto alla salute e volevo introdurre semplicemente, se lo riteniamo utile, anche una riflessione su quello che secondo me i big data possono offrirci in un'analisi continua di quelli che sono i bisogni di salute della popolazione. Abbiamo visto queste applicazioni molto verticali, importanti, su cui dobbiamo riflettere alla luce degli investimenti, ma credo che noi oggi abbiamo anche l'obbligo, e ci sono diverse esperienze in questo senso, di utilizzare questi strumenti per intercettare quelle che sono le aspettative vere dei nostri destinatari primi dei nostri interventi. Noi abbiamo l'opportunità attraverso l'utilizzo dei big data, e parlo veramente dei big data anche a livello, se volete direi consumer, noi oggi se apriamo un frigorifero che è connesso in rete, spesso e volentieri rendiamo delle informazioni. Oggi se noi andiamo a fare la spesa a un supermarket con la carta di credito sappiamo, se aderiamo a una campagna di promozione commerciale, sappiamo qual è l'orientamento commerciale. Allora, la integrazione su, e ci sono esperienze in questo senso, su quello che è l'anticipare il bisogno di salute della popolazione, se noi parliamo di interventi che ci consentiranno in un prossimo futuro di fare degli interventi nell'unica maniera che potrà rendere sostenibile il nostro servizio sanitario nazionale, cioè quello di evitare che i sani, che sono la stragrande maggioranza della popolazione, diventino malati. e i big data in questo senso potrebbero dare, possono dare una grande mano alle aziende sanitarie, integrando una serie di informazioni che sono fondamentali per i nostri interventi di salute. Io intanto ringrazio per questa opportunità, questo è un appuntamento molto importante, l'ho ascoltato con piacere e è veramente un arricchimento continuo. La Federazione delle aziende sanitarie raccoglie oltre 140 aziende sanitarie, quindi la stragrande maggioranza delle aziende sanitarie in Italia, e appuntamenti come questo che consentono un confronto approfondito su temi di straordinaria attualità sono un arricchimento vero. Quindi grazie, buon lavoro e a presto. Grazie Presidente. Allora io ringrazio tutte le persone che si sono collegate, tutti i relatori, tutte le persone in sala e tutti quelli che ci hanno seguito sia su Zoom e su Facebook. Grazie mille a tutti. E per le persone che sono in sala, se volete, sotto c'è una tavola parallela sull'aderenza.